Sono il responsabile marketing e comunicazione e oggi avremo un appuntamento che è realizzato in collaborazione con Wolf System e andremo a parlare di quelle che sono le tecnologie alternative rispetto alle tradizionali per una progettazione e realizzazione, quindi una costruzione sostenibile. Si parla molto di sostenibilità, cos'è la sostenibilità? La sostenibilità per un progetto, noi parliamo sempre di impiantistica sportiva, la sostenibilità deve essere ovviamente economico-finanziaria, spesso e volentieri è ancora il primo elemento al quale si fa riferimento, la prima accezione alla quale si pensa in termini di sostenibilità, ma la sostenibilità deve essere una sostenibilità anche, oltre che economica e finanziaria, anche ambientale e sociale e culturale. Parliamo brevemente un po' di tutti questi aspetti, dall'analisi di fattibilità tecnico-economica, passando per la progettazione e progettazione integrata, secondo principi di NSH, l'inconstruction, edificio Enzeb, CAM, fino a una realizzazione coerente col progetto che è stato sviluppato e concordato tra le varie parti in causa, dal committente, al progettista, al finanziatore. Altro aspetto fondamentale, parlando di sostenibilità in questo caso finanziaria, è anche la considerazione doverosa sul credito, sull'accesso al credito, sulle possibilità di accedere a un credito, in questo caso per una realizzazione sportiva. cercheremo insieme ai relatori e agli esperti che ci sono oggi di dare un riferimento e una voce a tutte queste voci. Vi ricondivido nuovamente un attimo la presentazione per procedere su quelli che sono i temi di questa mattinata. Vi introduco prima di tutto quelli che sono gli appuntamenti prossimi, ossia che avremo appuntamenti che avremo successivamente in presenza, in streaming, per poter essere sempre aggiornati sulle attività che portiamo avanti, attività formative. Il 22 e 23 ottobre saremo alla fiera di Move City Sport a Bergamo. Nella prima giornata, quindi il 22 ottobre, avremo due appuntamenti in presenza e anche in streaming. Il primo su aspetti legati, collegati alla gestione dell'impiantistica sportiva, quindi in qualche misura ciò che avviene dopo la tematica di cui parliamo in questa mattinata, come gestire in maniera manageriale e sapiente, funzionale soprattutto, un impianto sportivo oggi nel 2024. Il secondo appuntamento sarà legato a quelli che sono stati e saranno i prossimi aggiornamenti di regolamenti sia in campo FIFA sia da parte di LND. Ci sono già stati dei passi avanti, vedremo con degli esperti di riferimento quali saranno. Da un lato avremo proprio Lega Nazionale di Lettanti con la sua commissione erba sintetica, dall'altro un ente di certificazione, che in questo caso è Sports Labs, che spiegherà quelli che sono i test, l'aggiornamento al manuale dei test per l'erba sintetica, che sono stati recentemente proposti e pubblicati. L'ultimo appuntamento di quest'anno in webinar sarà tema in redurbano e sarà a metà dicembre, in maniera abbastanza usuale ormai, come da programma, come da prassi teniamo l'ultimo numero dell'anno, sia di T-Sport, che è webinar dedicato proprio al mondo, ad ora le attività non necessariamente all'interno di strutture definite. Un'introduzione a quello che è il planning del 2025, visto che quest'anno li abbiamo pubblicati di volta in volta, vi proponiamo già direttamente oggi quelle che sono le date previste, i luoghi e gli appuntamenti di cui andremo a parlare e sui quali andremo a fare considerazioni e ragionamenti. A questi se ne aggiungono sicuramente degli altri, nella prima colonna la pista per presenza e la W per webinar. Quindi vedete che la tendenza va nuovamente sempre più verso appuntamenti che siano fisici e diano possibilità di creare relazioni. Il programma di oggi, dopo questo mio breve incipit, avremo un'introduzione da parte dell'ingegnere Cristian Ruaro su Wolf System, che appunto è partner della giornata di quest'oggi. Seguirà l'architetto Pietro Vittorio, che sarà con noi anche a Moon City Sport nel primo appuntamento del 22 ottobre. Parleremo oggi insieme a lui di NSH e nel caso specifico del progetto un po' precursore della palestra scolastica Udine di Latisana. Con il dottor Alessandro Orsi di Green Building Factory vediamo quelle che sono le normative europee, quelle che sono le sfide quotidiane che il progettista deve affrontare per riuscire a realizzare un progetto coerente con tutte le esigenze, spesso non semplici da mettere insieme da parte di committenza, di fruitore, di gestore, nel rispetto delle normative, nel rispetto di quella che è la sostenibilità economica, ambientale e sociale, culturale di cui abbiamo parlato all'inizio. Parlando di strutture, di sistemi costruttivi linei, non possiamo trascurare sicuramente l'aspetto fondamentale della correzione acustica perché negli anni passati si è fatta forse un po' poco nell'impiantistica sportiva, ora è un tema fortunatamente decisamente più sentito sia in ambienti completamente chiusi come dei palazzetti, sia in ambienti dedicati a grandi eventi sportivi come possono essere degli stadi e quindi ne parliamo oggi insieme all'ingegnere Nicola Granzotto, tecnico competente in acustica e chiudiamo poi con l'architetto Luigi Boso di Boso & Partners che ci parlerà di un caso specifico che è la riqualificazione a VAS a Setteville. Come far collimare un esigenzo economica finanziaria nei confronti con la sostenibilità ambientale. Quindi detto questo io concludo semplicemente con una nota per i partecipanti, per chi avesse fatto richiesta di crediti formativi comunque per architetti non avete voi bisogno di scrivere nulla in chat, il link che state utilizzando è tracciato quindi vedremo chi ha partecipato e chi no e si trarranno le logiche conclusioni sulla base di quei numeri lì. Avete la sezione domande risposte per porre tutte le domande che volete ai professionisti che vi daranno risposta live quasi certamente a tutto ed eventualmente anche e sicuramente anche per iscritto. A questo punto io do il benvenuto all'ingegnere Cristian Ruaro, ringrazio lui e tutti gli altri relatori che sono oggi qui insieme a noi e voi partecipanti per esserci sempre ovviamente. Da qui in poi partono le nostre due ore formative che partono con l'introduzione di Wolf System e seguiremo il tema della costruzione e dei sistemi alternativi agli elementi più tradizionali. Benvenuto Cristian. Grazie mille Fabio, buongiorno a tutti, mi presento, sono l'ingegnere Cristian Ruaro dell'area tecnica e commerciale di Wolf System, azienda leader nel mercato delle costruzioni. Ringrazio innanzitutto la redazione di Sport Impianti per aver dato l'opportunità che ci ha concesso e a tutti i presenti collegati per la partecipazione. Come Wolf System ci siamo preoccupati principalmente di proporre temi che riguardano le problematiche che il mondo della costruzione dovrà obbligatoriamente affrontare e risolvere soprattutto per ottemperare agli obiettivi che la transizione ecologica indica come indispensabili ed inderogabili. Mi auguro che troviate interessanti i contenuti che vi saranno esposti dai relatori che seguiranno questa mia breve introduzione, breve per lasciare poi maggior spazio ovviamente i contenuti che approfondiremo. Iniziamo con questa prima slide, questi sono i numeri del nostro gruppo che lo pongono ai vertici europei nel settore delle costruzioni. Wolf System Italia fa parte del gruppo multinazionale Wolf Holding ed è strutturata tecnicamente e finanziariamente per affrontare professionalmente la progettazione strutturale, la produzione e la opera con proprie maestranze qualificate. Le nostre strutture sono realizzate per la maggior parte in legno e in acciaio, materiali che per le loro prerogative prestazionali e per i loro cicli di vita sono consoni all'ontenimento di un'edilizia ambientale. Sviluppiamo inoltre attraverso dei nostri brevetti di costruzioni soluzioni innovative prefabbricate e ovviamente certificate. la prossima slide riproduce le dimensioni dei nostri stabilimenti e sedi principali. Innanzitutto Austria e Germania e poi la sede italiana che si trova a Campo di Trens in provincia di Bolzano ed opera in completa autonomia dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista tecnico, finanziario e ovviamente anche dal punto di vista produttivo che permette di fornire ai nostri clienti risposte e soluzioni in tempo reale per qualsiasi richiesta. Parliamo ora dei nostri brand principali. Qui in questa slide sono rappresentati i tre principali brand azientali che spaziano su diverse tipologie e mercati di impiego con un comun però denominatore di alta tecnologia costruttiva prefabbricata ed è un'attenta scelta e controllo dei materiali impiegati. Grazie al nostro sistema prefabbricato le costruzioni vengono realizzate molto velocemente, i dettagli costruttivi vengono analizzati a monte del processo dove tutte le fasi componenti del progetto vengono poi ingegnerizzate. In più il nostro sistema prevede la preparazione di tutte le componenti della struttura direttamente in fabbrica all'interno dei nostri stabilimenti. Gli elementi strutturali escono dagli stabilimenti già pronti per essere poi trasportati in cantiere dove vengono assemblati e montati dalle nostre squadre senza gli imprevisti tipici dell'edilizia tradizionale. Vediamo ora l'elenco delle nostre principali certificazioni che ci aiutano a garantire ogni processo con la massima conformità relativamente a quanto disposto dai protocolli. Ci spinge essenzialmente uno scopo, costruire edifici in maniera sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Cerchiamo di seguire uno schema di riferimento che possa misurare le prestazioni in termini di sostenibilità. Il tutto per poter reddicontare gli impatti positivi per l'ambiente nel quale viviamo. Pongo ora il focus sul GBC, il Green Building Council, la più importante e autorevole organizzazione della quale siamo peraltro soci, che detta la linea per un'inizio ambientale e sostenibile. In conclusione, i temi che saranno trattati tra poco dai nostri relatori si focalizzano sulle attuali problematiche ambientali relative al mondo delle costruzioni. Eccone alcuni esempi. I nostri relatori parleranno di DNS-H, di CAM, criteri minimi ambientali, di tassonomia, di carbon footprint, di acustica e fonoassorbenza e infine di progettazione sostenibile. Quindi vi auguro un buon ascolto e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie all'ingegnere Ruaro. Continuiamo proprio partendo da questa sua ultima slide e dall'inizio dell'ultima slide. Arriviamo al tema del DNS-H. Cosa significa architetto Petro Vittorio? Buongiorno e benvenuto. Cosa significa in termini letterali? Cosa significa poi in termini operativi, concreti? Cosa ne dobbiamo trarre davvero? E come si sviluppa e si struttura poi una progettazione DNS-H.Oriented? Allora, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Intanto condividiamo subito la presentazione, così abbiamo anche più tempo per parlare. Dunque, la presentazione di oggi è una cosa diciamo divisa un po' a metà. La prima metà sarà una breve riepilogo di quello che è il DNS-H, che ormai è stato un pochino riconosciuto e diciamo stoganato rispetto a quelle che erano state le particolità iniziali o comunque i dubbi di interpretazione iniziale. E poi l'esempio che abbiamo voluto portare oggi è un progetto dello studio del 2011 e uno giustamente si chiede che ci azzeccano due cose a distanza di dieci anni. Ci azzeccano perché in realtà DNS-H, come vedremo adesso, non è altro che una sorta di protocollo di buona pratica e quindi alla luce di questo anche tornare indietro dieci anni nel tempo quando alcune attenzioni progettuali, alcune esempi di quella che può essere una realizzazione che tiene conto di tanti aspetti che adesso sono attualissimi, prefabbricazione, disassemblabilità, ciclo di vita di materiale eccetera, può essere interessante anche diciamo facendo una sorta di salto un po' all'indietro. Allora, il protocollo DNS-H, intanto spieghiamo che DNS-H non è un regolamento, non è una certificazione come purtroppo si inizia già a sentire, ma è un protocollo. E questa è una cosa molto importante perché lasciano i progettisti una serie di elementi, che poi vedremo, di tracce sulle quali poter ragionare. Io credo che sia fondamentale, non tutti abbiamo lo stesso approccio, non tutti abbiamo la stessa metodologia di lavoro, soprattutto sulla parte progettuale. Chiaro che poter avere un protocollo che ci dà delle linee guida alla fine, sulle quali raffrontarci diventa molto interessante anche perché è lì che dobbiamo fare un po' la differenza. Che cosa significa un acronimo? Una parola inglese viene dalla comunità europea perché con i fondi PNRR, siamo nel dicembre del 2022, esce questa parola, questo do no significativo, quindi arricchiamo un danno non significativo. In realtà la traduzione che voglio dare io è cerchiamo di limitare i danni. Per quale motivo? Perché in questo momento di transizione ecologica, che è anche transizione da tanti altri punti di vista, progettuale, tecnologica, siamo in un momento di grandi cambiamenti. Probabilmente il cosiddetto bandolo della matassa non l'abbiamo ancora trovato. E allora in questo momento un ragionamento da fare è anche quello di cercare di limitare i danni in attesa di trovare delle situazioni o di riuscire a trovare delle soluzioni concrete che possano essere anche durature al cento per cento. Pensiamo anche per esempio alle rinnovabili. Si parla di tante cose sulle rinnovabili fotovoltaico, i pannelli che fine faranno. C'è ancora un pochino di incertezza dopo il grande entusiasmo del lancio delle rinnovabili. Per cui adesso è il momento di capire e di concretizzare effettivamente quale potrà essere il futuro da portare avanti. E in questo caso il limitare i danni in questo momento può essere comunque una cosa interessante. DNSH nasce con i bandi PNRR. Nel giugno del 2023 il nuovo codice dei contratti decide di farlo proprio. Per cui se voi andate all'allegato secondo punto 14 trovate per esempio già nel progetto di fattibilità che è un po' la rielaborazione, la congiunzione del vecchio preliminare definitivo insieme, quella che è la relazione di sostenibilità. Relazione di sostenibilità che è un po' il momento di sintesi del nostro percorso progettuale. L'ho già detto altre volte, Fabio tu sai che io so queste cose, insisto, ma probabilmente perché ci credo. La relazione di sostenibilità non deve essere la fine del nostro progetto nel quale noi andiamo a completare una relazione perché ci viene chiesta e dobbiamo mettere insieme qualcosa. In realtà dovrebbe essere forse la relazione più semplice perché parte da un percorso che abbiamo seguito nella nostra progettazione. Non facciamo altro che metterli in bella, usiamo questo per un po' di altri tempi, però questo è il senso della relazione di sostenibilità. Però il criterio del rispetto dell'ambiente, quindi il discorso della durabilità del materiale, il miglior inquinamento, il riciclo delle materie prime, la disassemblabilità, va verso un po' quello che è il concetto che a me piace molto, che è quello che vediamo fra un attimo dell'essis forma. Perché le nostre progettazioni devono essere sempre più focus su questo ragionamento, su questa problematica della transizione ecologica? Perché ci sono tante cose che noi possiamo fare, sia in fase progettuale, sia in fase di impostazione di cantiere, sia in fase di cantiere. La razionalizzazione non è altro che cercare di uniformare al massimo il progetto utilizzando per esempio banalmente lo stesso materiale dove si può. Penso per esempio agli isolamenti, ci sono isolamenti di vario tipo, verticale, orizzontale. Perché non riuscire a trovare un isolante anche in alcuni casi magari ridondante come prestazioni e come spessore, ma che però è lo stesso che forniremo a tutto il cantiere. Meno viaggi, meno trasporto, meno CO2, meno sfridi, meno smaltimento. Tutte cose alla fine concatenate fra di loro. La gestione degli sprechi. Banalmente la canna dell'acqua sempre aperta in cantiere per sciacquare qualsiasi cosa. Purtroppo lo si vede ancora. Io l'altro giorno ho ripreso, usiamo questo termine, un capocantieri, mi ha guardato con due occhi come se fossi un marziano. Però insomma non è difficile. Fai tre passi, chiudi il rubinetto e lo riapri quando serve. La riduzione dei consumi. Questo chiaramente va di pari passo con tanti argomenti, in particolare con il discorso dello switch, diciamo, dal metano alle rinnovabili, quindi al discorso elettrico. Però è una riduzione dei consumi anche legato a quello che è in realtà poi successivamente la gestione del nostro impianto. Cioè cerchiamo di fornire progettualmente e realizzativamente un impianto che sia il più possibile orientato su tecnologie che riducano i consumi visti sia come proprio consumo di quello che è l'energia che li genera o che li attiva e anche quello che sono i costi poi di gestione. Attenzione ai dettagli. In questo momento progettualmente noi abbiamo il compito di fare una serie di verifiche importanti, poi li vediamo analizzando alcuni punti, in particolare del TNSH, ai dettagli. dettagli che non sono i dettagli costruttivi, cioè in particolare al 10 o al 5 del disegno, ma sono i dettagli che determinano scelte progettuali importanti, che non è semplicemente la collocazione sull'otto dell'edificio, ma inizia a essere anche, per esempio, quanta luce facciamo entrare, come gestiamo il discorso dell'SRI, quindi della riflessione o meno di alcuni elementi esterni, come gestiamo per esempio l'isole di calore, un altro elemento abbastanza sentito nelle città in questo momento. E poi questo, questo, diciamo, motto un po' che ci siamo dati, che è il less is more, che poi, visto che siamo in transizione ecologica, diventa un po' less is good. vediamo i sei punti del TNSH, poi vedremo questo esempio antelitera. Allora, li conoscete tutti, io cerco di semplificarli, anche per iniziare un pochino a portarvi verso il ragionamento che ha guidato il progetto per vedere successivamente. La mitigazione dei cambiamenti climatici di base è soprattutto un cerchiamo di limitare le emissioni. Quindi, banalizzando e generalizzando, c'è uno stop alle caldaie, a gas metano, nei nuovi edifici. L'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo è l'elemento, secondo me, più interessante di cui parla che progettualmente. Quindi progettare pensando al futuro. Il futuro, che cos'è? È un insieme di problematiche legate all'ambiente, che purtroppo stiamo vedendo in fine Emilia-Romagna, purtroppo l'hanno visto qualche giorno fa. È quello che è successo, con tutto sommato una pioggia, sì, importante, ma che ha causato dei danni gentissimi. L'adattamento quindi ai cambiamenti climatici significa, questo è quello che sta succedendo, stagioni invertite, continui sbalzi di temperature, un clima che, usiamo il termine, sta impazzendo, però sta impazzendo perché noi, diciamo, nel corso degli ultimi due secoli ne abbiamo combinate così tante che questo clima non ne può più, se proprio vogliamo banalizzarla, ma è la verità, questo sta succedendo e non aspettiamoci che nei prossimi anni la cosa venga invertita, perché ce ne vorranno, ci vorranno parecchi decenni perché ciò succeda, sempre che noi siamo attenti a quello che stiamo dicendo adesso e a quelle che sono un po' i comportamenti da tenere in linea generale. L'acqua, fino a un po' di anni fa dell'acqua si parlava poco, pensate soltanto alle bolle, l'acqua aveva costi irrisori, adesso insomma chi ne usa parecchia inizia a capire quanto importante sia. Ci sono due elementi importanti, a parte il discorso dei mari che lasciamo per un attimo da parte, l'utilizzo per esempio la limitazione dello spreco delle acque, quello che dicevamo prima banalmente il rubinetto che non si chiude, ma per esempio noi che ci occupiamo di impianti sportivi, il fatto di ridurre con una cartuccia inserita all'interno dell'ugello, delle docce o dei lavabi, l'erogazione dell'acqua, praticamente di tagliarla, usiamo questo termine, ne comporta una riduzione abbastanza importante. Pensiamo al recupero delle acque meteoriche, ci sono coperture molto grandi che vanno normalmente a perdere, a perdere dove nelle fognature che spesso quando ci sono fenomeni importanti diventano un po' di sezioni ridotte, o meglio una volta le facevamo correttamente adesso bisognerebbe anche pensare di progettarle con diametri un po' più importanti. Banalmente gli zainetti di contenimento dell'acqua di scarico del WC, semplicemente pensare al doppio pulsante applicato ad una scuola dove probabilmente le presenze sono importanti e conseguentemente gli scarichi dell'acqua sono numeri grandi, sono piccole cose che comunque aiutano da questo punto di vista. Transizione verso un'economia circolare, qui non mi dilungo perché i colleghi credo che parleranno in maniera più che chiara che si ripercuote o comunque dovrebbe avere un supporto non solo negli stili di vita ma anche nei consumi e nell'utilizzo anche in edilizia di materiali che siano in grado di avere o di provenire già inizialmente dal recupero dello stesso materiale parzialmente, questa è un'applicazione di CAM ovviamente, ma sia anche a fine vita il poter essere riutilizzati, non dover riempire diciamo gli inceneritori ma i centri di recupero. La prevenzione della riduzione dell'inquinamento visto a 360 gradi, quindi gli scarpi, gli sfidi, il packaging, anche il packaging nell'edilizia arrivano sempre noi, i mattoni sono sempre avvolti dal doppio nylon, doppi cartoni, c'è un utilizzo del packaging anche in edilizia che alcune volte possiamo definire ridondante. Gli elementi di demolizione, quindi anche cercare in qualche maniera di gestire all'interno del cantiere il più possibile la separazione dei materiali. La disassemblabilità a fine vita è fondamentale, noi normalmente gli edifici li abbiamo sempre demoliti in maniera grossolana, se adesso anche progettualmente iniziamo a farli con un certo criterio, ecco che poi la demolizione ci porterà al recupero di tanti di questi materiali. E poi il discorso trasporti e discariche, anche trasporti non è banale perché se io riesco a organizzare, come dicevo prima, con l'utilizzo magari la razionalizzazione degli elementi, ho citato l'isolamento, ce ne sono anche altri, l'atterizio eccetera, riesco a gestire e a compattare un po' i trasporti, ecco che meno trasporti, meno CO2. In realtà il camion è forse il mezzo più evasivo, che dà più problemi alle strade, per esempio, sia a livello di portata che a livello di usura, quindi tutte piccole cose, saranno anche gocce, però intanto sono gocce d'acqua nell'oceano, alla fine anche l'oceano è costituito di gocce d'acqua. Protezione di acquistino delle biodiversità degli ecosistemi, chiaramente se progettiamo in una zona protetta, dobbiamo avere tutte le accortezze che questo luogo ci richiede. Sostanzialmente il concetto è questo, se prima l'economia lineare, forse diciamo ancora oggi purtroppo l'economia lineare parte dall'estrazione, produzione, utilizzo e smaltimento, adesso l'economia circolare in realtà ha una partenza che può avvenire sia da materie prime, ma anche già da materie riciclate, quindi quella torta che vediamo in alto a destra può avere una partenza a seconda della tipologia del materiale, però ecco, questo è quello di destra, chiaramente il modello al quale dovremmo cercare in qualche maniera di riferirci. Iniziamo a parlare di questo progetto, è un progetto un po' antelitteram, lo si vede anche dai render, che adesso facciamo un po' meglio, ci sono dei programmi più interessanti che riescono ad elaborare anche cose. È del 2010 la prima mozza di progetto. È una palestra scolastica, è una palestra scolastica nella quale, come cercherò di raccontarvi un po', esiste un iter che non è tanto diverso da quello che potremmo seguire oggi se avessimo la possibilità di riprogettarla. Chiaramente ci sono dei limiti legati ai materiali, legati agli impianti tecnologici, soprattutto perché alcuni concetti non erano ancora particolarmente chiaro sviluppati, però fortunatamente diciamo che questo edificio si presta abbastanza anche alla trasformazione, per esempio, da gas metano a elettricità. Vi faccio vedere, questa è una vista pre intervento, qui siamo, questo è un Google Earth del 2008, questa è la scuola, la scuola elementare, questo è un campetto esterno, è un campetto da patinaggio, quindi è abbastanza grande sui 40 per 20, questa era la vecchia caserma dei vigili del fuoco, che per fortuna adesso hanno una sede assolutamente più degna e soprattutto che gli consente una manovra qui, come vedete, è abbastanza complicata. Siamo in mezzo a una zona residenziale, qui a destra, poco oltre, c'è la stazione della ferrovia, qui a sinistra c'è il centro, la tisana è un paesotto di poco più di 12-13 mila abitanti, per cui ha una concentrazione abbastanza forte. Siamo nella zona della bassa, le piccole di Venezia Giulia, non lontani da Lignano, se qualcuno ha più dimestichezza con queste aree. Questa è la zona di intervento. Questa è la zona di intervento, questo è il primo approccio, ripetiamo, 2010-2011 di quella che sarà l'area di cantiere, quindi una serie di elementi che comunque a livello di organizzazione di cantiere di cui abbiamo dovuto tenere conto è la separazione, che è questa rispetto alla scuola, perché la scuola doveva rimanere a tutti gli effetti attiva. Il posizionamento della palestra è legato a due aspetti fondamentali. Il primo poter avere uno spazio esterno sufficiente per poter muoversi con i mezzi. Avete visto la logistica? Cioè siamo proprio nel centro della cittadina con problematiche non da poco visti i mezzi che girano in cantina. Il secondo è che questa zona in particolare, sia la tisana come paese, ma questa zona in particolare, spesso quando ci sono stati degli eluvioni, il tagliamento non è tanto lontano e più di qualche volta la tisana è esondata, si è trovata sott'acqua o comunque in situazioni di difficoltà da questo punto di vista. Quindi un altro elemento di cui abbiamo dovuto tenere conto progettualmente. Ovviamente all'interno di queste lavorazioni dove abbiamo potuto, chiaramente un elemento dei lavori pubblici sono anche il budget, quindi non è che si può fare tutto quello che si vuole, però una cosa sulla quale abbiamo cercato di muoverci con un po' di attenzione è stato quello della prefabbricazione, soprattutto della parte di copertura dove effettivamente i tempi e soprattutto la presenza di mezzi in quest'area sarebbe diventato molto molto complicato. Rapidamente, giusto per inquadrarvi, questa è la pianta, un edificio con volume principale ovviamente d'altezza commisurata a quelle che sono lo svolgimento delle attività, due corpi esterni, entrambi usati per spogliatoi, servizi, magazine eccetera. Questo marrone che vedete qua sopra è questo, quindi vicino all'entrata, quello arancio invece quello laterale. Poi vedremo anche un attimo il discorso materiali e quelle che sono state un po' le scelte. Questo è l'elemento di progettazione strutturale sul quale ci soffermeremo un attimo dopo che è legato all'utilizzo di un sistema prefabbricato da copertura che in questo momento da Wolfhaus si chiama Next Panel, diciamo che questo era il padre del Next Panel, a livello diciamo leggermente oltre il prototipo. Abbiamo voluto sperimentarlo perché lo ritenevamo soprattutto per questo cantiere una soluzione molto interessante, quindi già esiste un pacchetto diciamo che arriva prefabbricato con tutti gli elementi, anche la parte sotto diciamo del chiamiamolo controllo. Logistica non banale. Adesso vedremo anche un po' di date perché è interessante. Logistica non banale perché pensare di avere una gru, da qui il discorso del cantiere con uno spazio sufficiente dove poter elevare in quota queste travi lamellari non è da poco. il loro posizionamento. Questa è diciamo la fine del posizionamento. 9 del 7. Siamo lunedì 9 luglio alle ore 10. Questo è quello che succede invece il montaggio dei pannelli prefabbricati sempre con la stessa gru che è rimasta lì e con l'arrivo di un camion che li trasportava. il giorno dopo, cioè non un astimato, il giorno dopo, mi sono stupito anch'io, dico la verità, però le foto come sapete lasciano traccia. I jpeg sono sempre tracciati e questi sono i riscontri che ho avuto. Il 10 di luglio, quindi il martedì, il giorno successivo alle ore 11, io praticamente ho già messo giù la struttura e un po' più di metà di copertura. La copertura è finita, finita internamente, finito tutto alle ore 15 di martedì 10 luglio. Allora questo è un elemento io credo interessante, quindi la necessità di realizzare con un elemento prefabbricato già pre accoppiato di tutti gli elementi esistenti. in questa zona legato a due, a tre aspetti fondamentali. Adesso diciamo che lo vedremo anche dal punto di vista della disassemblabilità. Sicuramente del fatto che a copiarlo in fabbrica alcuni dettagli vengono curati con la certa attenzione, ma qui alla tisana avevamo due problemi. Il fatto che la domenica, se io ci vignano vicina e non avrei mai potuto fare un intervento del genere, perché il via vai di macchine è notevole e che mercato è il mercoledì. Sembra una banalità, ma il mercato a mercoledì blocca la città. Quindi abbiamo dovuto, diciamo, condensare il montaggio tra lunedì e martedì e soltanto con una soluzione del genere che saremmo potuti riuscire. Chiaramente abbiamo limitato completamente dal tuo discorso degli sfridi, perché il materiale è già arrivato misurato, non è stato tagliato nulla in cantiere, anche perché questi tempi di realizzazione parlano abbastanza chiaro. Questa è la copertura, viene finita la settimana dopo, se ricordo bene. Tornando indietro, diciamo che a livello di dnsh, quindi di materiali, avremmo fatto un'altra scelta, se fossimo stati adesso. Probabilmente invece di mettere una guaina attesiata avremmo messo una guaina con una finitura alluminata, quindi il discorso dell'SRI molto alto per una riflessione e quindi un carico di calore del pacchetto di copertura minore. Però è chiaro che tutti gli aggiornamenti adesso si fanno in maniera leggermente più attenta. Probabilmente avremmo messo del fotovoltaico. In realtà il fotovoltaico è sul tetto della scuola, quindi è un collegamento che sicuramente anche il fatturo verrà fatto. In questo momento c'è una caldaia a condensazione, perché quella volta si parlava un po' poco di temi di pompa di calore c'era, ma non per pensare di scaldare completamente l'edificio. L'edificio comunque ha riscaldamento a pavimento, di conseguenza anche questo uso di basse temperature eccetera, lo switch tra metano e pompa di calore è comunque possibile anche a pavimento. Questa è la palestra finita. Alle pareti per esempio abbiamo utilizzato un materiale per l'acustica che è il legno magnesite, quindi anche qui l'attenzione è sempre una scuola elementare, ci sono sempre bambini in mezzo. Una pavimentazione incolato, per esempio incolato con resina per non avere giunte. Anche qua un elemento volto alla riduzione della manutenzione, altro elemento importante chiaramente delle costruzioni. Per esempio le lampade quindi sono a LED, perché nel 2010 progettare a LED un impianto sportivo non c'erano ancora ottiche che garantissero o che dessero tutte quelle garanzie, schede tecniche, elementi di sicurezza a livello illuminotecnico. Quindi cercando di mettere un po' assieme gli elementi e collegando idealmente una dozzina di anni di differenza tra la DNSH e questo progetto, importante era quella volta ma lo diventa anche adesso l'organizzazione del cantiere, soprattutto in zone dove spazi non ci sono, ma l'organizzazione del cantiere a tutto tondo. Banalmente il luogo di stoccaggio è un luogo importante soprattutto nel momento in cui abbiamo sostanze deperibili perché può diventare una zona in cui lo sfrido alla fine banalmente può percolare nel terreno. La scelta della posizione dell'orientamento dell'edificio sull'otto lo è sempre stato fondamentale. col DNSH si chiede di fare uno sforzo ulteriore per far sì che ci siano per esempio l'apporto solare invernale che è fondamentale e una schermatura o comunque una riduzione dell'isole calore soprattutto d'estate. I due corpi colorati che avete visto a corollari dell'edificio principale sono stati realizzati con degli pannelli in HPL, quindi una facciata ventilata, proprio per riuscire a ridurre il più possibile il riscaldamento delle pareti. Il discorso che dicevamo prima, allagamenti, l'edificio è stato rialzato di circa 30 cm sull'otto per portarlo fuori da qualsiasi tipo di eventuale non ricezione dell'impianto, diciamo, delle reti tecnologiche delle acque meteoriche. Scelta oculata delle finiture, siamo nella zona della bassa friulana, non siamo lontani dal mare, spesso da noi tende a sciroccare, quindi il vento di scirocco che da sud arriva comunque a lambire anche queste aree qua, seppur distanti, qualche chilometro, per cui per esempio le latonerie le abbiamo fatte tutte in alluminio. Per esempio il discorso della facciata mitilata serve anche per proteggere l'isolante che comunque è stato coperto con un telo traspirante nastrato. Tutti i piccoli accorgimenti. Non ci sono elementi in calcestruzzo a vista e dove ci sono, per esempio, le coperture orizzontali dell'ingresso di una zona centrale termica sono state trattate con prodotti che evitano l'aggressione della salinità. L'opzione della propria applicazione è chiaramente stato un elemento fondamentale per la copertura. Facendolo in maniera tradizionale probabilmente ci avrei perso o ci avrei impiegato io dico tre settimane, anche quattro. In questo caso siamo andati via in circa sette, otto giorni. E poi legato a questo, perché le cose non sono mai separate in realtà, anche se non è un punto dal DNSH la sicurezza nei cantieri. Se io opero con prefabbricazione sono molto più sicuro rispetto a fare un'opera di una copertura di una superficie di circa settecento metri quadri tutta quanta a stratigrafie successive sul posto dell'intervento. Il recupero delle acque meteoriche per esempio noi qui avevamo già previsto, poi non ho idea se sia stata allacciata o meno, ma eravamo partiti con questa con questa intenzione, quindi il fatto che ci sia un recupero di tutte le acque meteoriche, ci sia un pozzetto che è il pozzetto diciamo anche di non ritorno, che aiuta ad evitare il ritorno eventualmente della fognatura qualora non ricevete, e da questo pozzetto la possibilità di derivarsi per avere un accumulo di acque meteoriche. La disassemblabilità a fine vita è un elemento molto importante del DNSH. L'edificio questo è fatto in calciastruzzo e l'atterizio è legno, sostanzialmente per la stragrande maggioranza. Di conseguenza pensare a una disassemblabilità di fine vita vuol dire che la copertura prefabbricata io la posso portare a terra, la posso aprire, gli tolgo l'isolante e tutto il resto è legno. La parte di calciastruzzo e l'atterizio può diventare un elemento che viene fornito a aziende che recuperano i materiali in affanno del misto vagliato riciclato. Un tema che è venuto fuori, per esempio, giusto da fare una piccola parentesi con l'ultima circolare di LND per i campi di arpa sintetica. La funzionalità e l'obustezza dei materiali. Questo è un tema che ha a che fare sia con lo sport che con le scuole. Credo che comunque vada di pari passo con il discorso della scarsa manutenzione. DNSH, per quella che è la nostra visione progettuale, poi, ripeto, ognuno è giusto che abbia la sua, significa progettare in maniera attenta, tale da ridurre il più possibile anche le opere di manutenzione. Purtroppo i comuni hanno sempre meno operai impiegati nella manutenzione, ne fanno sempre meno, le demandano a società esterne, con tutte le conseguenze del caso sulle quali non voglio dilungarmi, non è, diciamo, né l'argomento né la sede adatta, però il problema esiste. Allora, se noi progettisti riusciamo a fare degli interventi e dei progetti più performanti da questo punto di vista, ridurremmo anche questa problematica. Calore, comfort materiale, colori interni, questo con il DNSH ha a che fare pochino, però io credo che comunque vada di pari passo con la buona progettazione. Vado a concludere alcuni punti di riflessione, quindi impariamo a utilizzare correttamente gli strumenti del DNSH che rende i nostri progetti più virtuosi. Io continuo a dire, e Fabio questo lo sa, perché ormai ci conosciamo da qualche anno, che noi architetti facciamo un mestiere più bello di poco. Cioè non ce n'è, ma con differenza. E la grande fortuna che abbiamo in questo momento è di poter dire la nostra in maniera infinitesimale, però sempre qualcosa vale. E quindi non voglio dire credere nella transizione ecologica, perché la transizione ecologica c'è e andrà avanti, che uno ci creda o meno. Ormai, come dire, è un fiume che ha iniziato a scorrere. Però in questo momento epocale noi abbiamo, oltre a fare la professione più bella del mondo, abbiamo la fortuna di poterci cimentare quotidianamente con questi temi. e allora a quel punto lì, che uno ci creda o non ci creda, io finisco con la mia massima di confuscio, o porti almeno una soluzione, o anche tu sei parte dei problemi. Grazie all'architetto Pietro Vittorio. Pietro, ti faccio una domanda, dato che quella è stata la tua, se ho capito bene, prima esperienza con questo tipo di soluzioni costruttive. I tempi di progettazione, come sono stati rispetto a altri progetti simili che il tuo studio ha portato avanti? Più brevi, più lunghi per magari una necessità di formarsi e informarsi di più, o il supporto, in questo caso del fornitore di Wolf, è stato, non so, di un certo tipo, un certo livello, tale da rendere trascurabile il delay aggiuntivo? Certo, allora, progettualmente in realtà grosse differenze non ne abbiamo trovate. È chiaro che essendo ancora un qualche cosa a livello poco più avanzato, diciamo, era già stato messo in produzione, però era ancora un po' i primordi di questo pannello, è chiaro che abbiamo avuto la necessità di acquisire tutta una serie di elementi, soprattutto legati alla progettazione strutturale, nonché alla verifica, perché quella veniva da sé, essendoci un pacchetto già precostituito, di quello che è il lambda della trasmittanza. In realtà devo dire che essendoci una camera vuota all'interno di quello che è il pacchetto tra strato inferiore e strato superiore, il poterlo riempire con isolante di diversa densità o diversa altezza avrebbe o ha comunque comportato una scelta da parte di noi progettisti che è stata secondata dall'azienda, quindi ho 20 centimetri, 24 centimetri di spazio, potevo mettere teoricamente 24 centimetri di isolante. Chiaramente essendo l'aria un ottimo isolante, adesso le misure onestamente non me le ricordo, ma se fosse adesso probabilmente le metteremo 14, 14, 16, quella volta sicuramente qualche centimetro in meno lo abbiamo messo. No, progettualmente io credo che le differenze siano veramente poche. ci sono alcune accortezze legate al progettare con elementi prefabbricati, però io li vedo più a livello di computazione, quindi tenere conto anche di quelli che sono gli oneri di portare un pannello già preassemblato in cantiere che sono oneri di trasporto, di sicurezza, eccetera. però progettualmente io credo che sia stata una soluzione che potremmo rifare anche domani e che ci comporterebbe sicuramente un know-how maggiore, ma a livello di tempistiche ti posso dire che a questo punto probabilmente sarebbero anche leggermente inferiori. Ma quello che ha fatto le differenze è stato il cantiere. Cantiere dove dieci anni fa meno, adesso molto di più, le maestranze si trovano con contagocce, spesso c'è fretta, l'attenzione viene meno, la presenza del geometra diciamo di cantiere non è sempre garantita e di conseguenza io credo che questo sistema in realtà tolga tutta una serie di problematiche che altrimenti in un cantiere possono esserci. E le coperture sappiamo che sono forse il punto più delicato di tutto l'edificio. Ecco, parlavi di un pacchetto padre in qualche misura rispetto a quello di cui si parlerà anche nei progetti più tardi nella mattinata. Era comunque, per quanto possa ricordarti a distanza di anni, un pacchetto che già comprendesse una correzione acustica quanto possibile. Assolutamente sì, tant'è che l'impatto che abbiamo avuto anche il giorno dell'inaugurazione è stato importante. Chiaramente noi abbiamo curato anche l'isolamento acustico, l'assorbimento acustico delle pareti con questi elementi in legno. Ecco, volevo chiederti perché appunto nelle foto sembrava ci fossero dei tamponamenti con pannelli. Sì, infatti abbiamo operato sia a livello verticale che a livello orizzontale, però sappiamo che in una palestra soprattutto il fatto che non riverberi dall'alto è importante. Il sistema che abbiamo adottato, c'erano alcune possibilità di soluzione, è stato quello a doghe con uno spazio tra doghe e doghe. Questo per consentire sia l'assorbimento acustico, ma anche per gestire diciamo con lo stesso elemento, nello stesso momento sia la questione estetica, ma anche quella di robustezza. Siamo sempre in una palestra, ci giocano i ragazzi, pallonate e cose del genere. Sono all'ordine del giorno. Quindi le due cose sono andate di pari passi. Cioè quello che ci ha convinto subito dall'inizio era il fatto che questa soluzione prefabbricata dava risposta a tante questioni e risolveva in un elemento unico tutta una serie di problematiche che gli impianti sportivi sono fondamentali. Questa è stata un po' la razza che ci ha portato a fare questa scelta. Benissimo, ti ringrazio. I tempi di cantiere sono ovviamente un risvolto spaziale. L'abbiamo visto negli ultimi anni in diversi progetti e realizzazioni che prendano in considerazione, che abbiano messo in campo soluzioni poi con pacchetti preconfezionati e pre-realizzati in stabilimento. Grazie intanto all'architetto Pietro Vittorio. Continuiamo insieme al dottor Alessandro Orsi, CEO di Green Building Factory. Anche voi, se non ricordo male, partner e parte del Green Building Council, il nome anche già richiama. vediamo quali sono in chiave progettuale le difficoltà, le sfide, gli stimoli anche sicuramente, dato che fate il lavoro più bello del mondo per avere un giusto equilibrio tra esigenza, sostenibilità, normative, regolamenti e protocolli, perché adesso aggiungono anche protocolli. Grazie, buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato. Devo dire che oggi affronteremo più argomenti, per ognuno dei quali avrei bisogno di qualche ora, quindi cercherò di essere il più sintetico possibile senza perdere pezzi. Eventualmente fatemi sapere se c'è qualche richiesta di chiarimenti alla fine. una breve presentazione. Io sono un ingegnere italiano che dopo essersi laureato a Trento in Ingegneria Edile sono andato a lavorare e studiare negli Stati Uniti, poi mi sono formato ulteriormente tra Stati Uniti e Spagna e lavoro da quasi vent'anni tra Europa, vari stati in Europa, Germania, Portogallo, Spagna, Italia, Stati Uniti, America del Sud. E quindi io oggi cercherò di portarvi una visione anche un po' internazionale e globale di quello che sta diventando il mercato di costruzioni e delle necessità che sta affrontando, sia a livello normativo che a livello commerciale. sono direttore di Green Building Factory che fondamentalmente è un'azienda che funziona come piattaforma per altre aziende. Abbiamo 13 aziende partner in tutto il mondo e altri tre centri di ricerca. tutto il mondo no, scusate, tra Europa, Stati Uniti, America Centrale e America del Sud. Abbiamo più di 250 tecnici e fondamentalmente ci focalizziamo su sostenibilità e project management nelle varie societature. Copriamo quattro ambiti fondamentali, edifici, infrastrutture, Green Finance, quindi la sostenibilità applicata alla finanza, e quello che è il climate change e le normative per le quali l'Europa adesso sta spingendo molto e che a tutti gli effetti sta diventando un riferimento a livello internazionale. Questi sono alcuni dei nostri clienti, riconoscerete i nomi abbastanza in voga. E partiamo subito con i temi, con il primo tema, sostenibilità e tassonomia europea. Allora, noi da quasi vent'anni facciamo questo lavoro e la sostenibilità non è mai usata, non è mai quasi perseguita per la sostenibilità, viene sempre perseguita per altri fini. Quindi vediamo uno come valore aggiunto. Quanto vale l'edificio? Vale 100, se gli attacco una certificazione vale 110, 115. Quindi in questi ultimi anni abbiamo visto proprio la necessità di applicare un bollo, un stamp, al mio edificio per renderlo perlomeno sulla carta sostenibile, quindi per poterlo vendere a più valore. Noi lavoriamo con dei fondi di investimento che speculano sostanzialmente sulla sostenibilità. Loro comprano immobili, grandi quantità di immobili, hotel o residenziali non certificati, li certificano, la cui operazione costa un 2-3% in più, e li rivendono al 15-20% in più. Questo come riferimento è uno studio che ha già qualche anno, ma è ancora attuale per quanto riguarda i numeri e anche forse sottostimato. Questo è un studio di real estate degli Stati Uniti che dimostra che una certificazione di sostenibilità può valere anche un 25% in più del prezzo di costo e anche un 15-20% in più dal punto di vista dell'affitto dell'immobile. La sostenibilità si usa tanto come elemento di marketing, quindi io il mio edificio lo converto in edificio sostenibile o comunque gli applico il famoso bollo di sostenibilità e automaticamente io posso vantarmi o comunque vendere l'immagine che questo prodotto sostenibile ha. Ma che io sia il sindaco e faccio la scuola sostenibile, certificata, eccetera, votatemi, piuttosto che l'azienda che dice tutto il certificato, eccetera, siamo un'azienda sostenibile. Occhio perché la sostenibilità è un termine molto, molto usato, anche troppo, ed è diventato senza significato, in inglese si dice spoiled. Quindi dire che qualcosa è sostenibile non vuol dire nulla, solo nel momento in cui io definisco rispetto a che parametri è sostenibile, che allora gli do una valenza. E sostenibilità, un altro fattore che abbiamo visto, come garanzia di qualità. Noi se progettiamo e realizziamo gli edifici in Italia, utilizziamo delle normativi italiane. Se andiamo in Germania usiamo le DIN, se andiamo in Europa abbiamo i nostri standard più o meno europei, ma a livello internazionale cosa succede? Quindi questi sono alcuni dei progetti che abbiamo in giro, ai Caraibi stiamo realizzando dei resort enormi per le quali il progetto è stato fatto dai messicani, da uno studio messicano. La mano d'opera è locale, il general contractor è francese, noi siamo spagnoli, non esiste in questo caso una direttiva di costruzione o comunque delle leggi di costruzione comuni. E alcuni protocolli di sostenibilità, detti di sostenibilità, quindi LEED, BRIAM, DG&B, DG&B, sono protocolli si dice a 360 gradi perché toccano più ambiti dell'edificio e quindi costituiscono un certo benchmark, un certo livello di riferimento di sostenibilità perché sono comunque tutti uguali nel mondo. Se andate nei fondi, nei grossi fondi di investimento, nelle grosse banche e anche in aziende di assicurazioni, vedrete che raramente comprano qualcosa che non si è certificato oppure perché non si vende più, perché non ha il certificato di qualità. Un altro progetto era in Spagna per una farmaceutica statunitense che voleva il protocollo WELL, che è una via di mezzo tra un protocollo di sostenibilità ambientale e sostenibilità come qualità degli ambienti interni. e anche in Italia un'azienda internazionale esigeva che tutti i suoi immobili fossero certificati lì. Quindi sostenibilità come tante cose meno sostenibilità. E quindi fino ad oggi abbiamo visto la sostenibilità come una variabile secondaria. Cioè il mio progetto, mi chiedevano quanto ci metti a farlo e quanto costa, ci attacchiamo il bollino di sostenibilità, ok, però la sostenibilità era sempre stata considerata una variabile in secondo piano. E noi, per quanto riguarda l'ambito di sostenibilità, abbiamo sempre fatto il ruolo dei consulenti che entravano in un secondo piano. Cioè, ragazzi, quanto abbiamo da fare in questa palestra qui? 5 milioni di euro, ok. Quanto costa poi fare la sostenibilità? Lo vediamo dopo. Intanto mettiamo a posto i soldi e il tempo, il cantiere, quello che è, la sostenibilità. In realtà, adesso la musica cambia, è già cambiata in Europa e in Italia, con qualche anno di ritardo, sta cambiando. Perché la sostenibilità è diventata un requisito necessario per avere accesso a finanziamenti e per poter rispettare le norme che fino ad ora non c'erano. E questo riguarda non solo gli immobili, ma anche tutto il resto. Quando parliamo di tassonomia, lo vedremo tra poco, parliamo di tutti gli ambiti che ci riguardano. Sia gli immobili che i prodotti che compriamo, i processi industriali, anche i processi sociali ed economici all'interno dei quali ci muoviamo. Partiamo dal primo esempio per quanto riguarda i finanziamenti pubblici. E questo è un esempio di una nuova realizzazione di una cantina in Chianti. Loro hanno chiesto dei finanziamenti pubblici che vengono concessi solamente se il progetto rispetta il Regolamento 852 del 2020, in particolare alcuni articoli del Regolamento 852 del 2020, che è la tassonomia europea. Fondamentalmente cosa succede? Che gran parte dei finanziamenti pubblici che si vedono adesso erogati alle aziende procedono da fondi europei, vedi PNRR o altri, e questi sono soggetti sempre all'ottemperamento di normative europee, come per esempio la tassonomia. E voi andate a Invitaglia, per fare tutte le pratiche per il vostro finanziamento, e Invitaglia, oltre alla sostenibilità economica che deve valutare la banca, oltre a tutte le carte che vi fa fare, vi manda questo, che è una matrice di interventi previsti per rispetto dei principi di NSH, che non è che una trasposizione degli articoli dal 10 al 15 della tassonomia europea. E quindi vedete qua a sinistra, obiettivi di NSH, mitigazione del cambio climatico, adattamento al cambio climatico, uso sostenibile di protezione delle acque, economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, questo è il settore 10, 11, 12, 13, 14, 15. E vi chiedono per ogni articolo quanti soldi investite, che tecnologie usate e che percentuale questo tipo di investimento mirato per quella parte di sostenibilità rappresenta rispetto al totale. Quindi la sostenibilità non è più una variabile secondaria, perché se non la fate non prendete i soldi. Io personalmente sono supervisore per ISMEA, che è il ramo economico che gestisce il Ministero dell'Agricoltura, e vi confermo che tutti i progetti che noi vediamo sono adesso soggetti a questo tipo di analisi qua, previamente all'Ulla Osta per la concessione dei finanziamenti. E quindi se si vogliono accedere a finanziamenti pubblici, fondamentalmente questo è già un obbligo. Anche per quanto riguarda i finanziamenti privati, adesso, da un po' di anni, è obbligatorio l'ottemperamento dei requisiti di sostenibilità. Però sono requisiti diversi. Nel 2018, l'Unione Europea ha pubblicato il Task Force on Climate Change Financial Disclosure, che è un documento che in estrema sintesi diceva fondi di investimento, banche, istituti di credito, cioè i volani dell'economia di ogni Stato, non possono più permettersi di finanziare in forma indiscriminata qualsiasi attività. Devono dare una precedenza alle attività sostenibili, tra virgolette. Il problema è che cosa vuol dire sostenibile? Come abbiamo detto prima, niente la parola in sé. E quindi ogni banca, istituto di credito, eccetera, si è negli anni dotata di strategie che si chiamano ESG, Environmental Social and Governance. Come funziona? Questa cosa funziona come qualsiasi procedimento europeo, cioè l'Unione Europea dà le direttive, poi sono i vari Stati, i singoli Stati, che devono implementarli attraverso normativi attuativi, decreti ministeriali, eccetera. Quindi ogni banca, in teoria, avrebbe dovuto creare la propria strategia ESG, dicendo guarda che per me sostenibile vuol dire questo, questo, questo. Fa riferimento a protocolli di certificazione, piuttosto che a normativi europee, piuttosto che direttive ISO per i prodotti, eccetera. Ho usato il dovrebbe perché non sempre si è fatto. Cioè l'idea era questa, o è questa ancora. La banca ha l'obbligo di dedicare, la banca, l'istituto di credito, chi che sia, ha l'obbligo di dedicare parte sempre più incrementale del proprio portfoglio di investimenti a investimenti di sostenibilità. e all'estero, perlomeno, perché qui adesso, come vedremo, siamo un po' in ritardo in Italia, funziona così. Si va dalla banca, la banca dice, e dici, guarda, io vado a realizzare questa nuova azienda, questa nuova industria, questo nuovo palazzetto dello sport, quello che è. E la banca dice, ok, ti do i soldi al 6%, il 6,5%, però se questo palazzetto o capannone è sostenibile, i soldi te li do al 3%. E la definizione di sostenibile va, come dicevamo prima, sulla base delle strategie ESG di ogni banca. Quindi, per esempio, noi, ah, scusate, questo è uno studio che abbiamo fatto noi assieme ai nostri partner nel settembre 2021, relativamente a cosa volesse dire allora sostenibile all'interno delle strategie di ogni banca in Europa, perché avevamo un grosso gruppo di un fondo internazionale che diceva, scusate, era un gruppo di real estate che operava nell'hotellerie, dice, devo investire, ho bisogno di grosso accesso al credito se realizzo i miei edifici in un certo modo da chi posso andare per avere soldi a un interesse agevolato. Nel 2021 queste erano le banche, alcune banche che avevano già delle strategie ESG implementate, riconoscerete probabilmente ING, per la quale diceva che nel mercato europeo, USA e Asia, per loro sostenibile voleva dire che l'edificio dovesse avere almeno un Brian Very Good, oppure un LEED Gold, oppure un DGNB Silver, oppure un HQE Excellent. Quindi all'interno di ogni banca si realizzavano le proprie normative per definire cosa fosse sostenibile o meno. Questo è un esempio di un edificio industriale. In Spagna, il proprietario ha realizzato l'esecutivo, è andato in banca, ha chiesto i soldi, e ha detto, guarda che se lo fai è sostenibile, secondo le normative di qui sopra, ti diamo i soldi alla metà dell'interesse. Quindi è venuto da noi, e dice, ragazzi, devo certificarlo. Ho capito, ma hai realizzato il progetto secondo me? Eh no, allora bisogna rimettere mano anche al progetto, no? Quindi queste sono le dinamiche che stiamo vedendo all'interno degli stati europei. In Italia, purtroppo, o almeno perlomeno fino all'anno scorso, un anno e mezzo fa, non c'era questa cosa, perché noi avevamo un progetto a Padova, capannone industriale molto simile, che volevano certificare perché producono, realizzano prodotti che vendono negli Stati Uniti, e loro sanno che se sul loro prodotto mettono, realizzato in un stabilimento lead, possono chiedere il 10% in più al mercato statunitense per i prodotti che vendono. Ok? Quindi usiamo la sostenibilità come prodotto di marketing. E se ne ho detto, ma visto che noi lo certifichiamo lo stesso, possiamo chiedere il credito? Ok? E sono andati da una delle più grosse banche italiane, una delle top 4, e la banca era venuto fuori che la banca aveva sì un portfoglio da dedicare obbligatoriamente ai green bonds, ma siccome non erano riusciti a metterlo a terra all'interno delle filiari, istruendo il personale, creando le politiche interne, si erano auto ricomprati gli 800 milioni di green bonds che avevano dal proprio fondo per tirarlo fuori dal bilancio e quindi non essere multati dall'Unione Europea. E quindi non siamo riusciti ad ottenere dinamiche di finanziamento agevolato per quell'edificio. Adesso sto vedendo che tante banche in Italia stanno approvando strategie ESG come fiocchi di neve a dicembre, ma quello di cui sono preoccupato è che abbiano semplicemente copiato e approvato le direttive europee perché andando a parlare con i direttori di filiale o con le persone che lavorano o con il pubblico, sanno cos'è l'ESG ma non hanno delle direttive specifiche come quelle che abbiamo visto prima. Spero di sbagliarmi, però da questo punto di vista l'Italia è un po' indietro, tuttavia queste cose arriveranno. Si stanno trasformando anche le banche. Questo qui è un prodotto tra virgolette IT che abbiamo aiutato a sviluppare e l'hanno sviluppato i nostri partner è Everis che adesso si chiama Inetit Data ed è un sistema semiautomatico di calcolo dei KPI, degli indicatori di sostenibilità. Come funziona? Che fondamentalmente la banca dice io devo convertire, cioè finanziare quanto più possibile i miei clienti che creano attività sostenibili e anche i clienti hanno bisogno di valutare il proprio livello di sostenibilità. Quindi dicono tu cliente porta i soldi da me a banca e io ti offro un sistema per autovalutarti da tutti i suoi sostenibilità gratuitamente. i clienti portano i soldi nella banca e per autovalutarsi compilano tutti i modelli. Quindi la banca ottiene due, prende due piccioni con una favola perché prima prende i soldi del cliente e secondo gli fa autocompilare il proprio database che se no dovrebbe andare a fare lei. Ok? E quindi anche in questo stiamo vedendo un cambio del mercato finanziario. Questo vale come dicevamo sia per la parte degli edifici che parla a parte dei prodotti perché i prodotti non certificati hanno meno accesso al mercato cioè si vendono meno e siccome le normative di sostenibilità richiedono delle certificazioni piano piano si sta andando verso un mercato dove i prodotti non certificati non sono amissibili. Calcolo delle impronte di CO2 sto andando un po' veloce scusate però sono come dicevo temi abbastanza complessi. l'impronta di CO2 come gli altri identi KPI indicatori di sostenibilità vengono realizzati vengono calcolati quasi sempre attraverso il processo Life Cycle Assessment cioè cosa succede al mio prodotto al mio edificio durante la fase di ciclo di vita e quanta CO2 metto quanta acqua consumo quanta energia consumo eccetera. Anche in questo caso dal punto di vista dell'Unione Europea funziona che l'Unione Europea dà una direttiva generale e ogni Stato dovrebbe renderla operativa attraverso decreti autottivi legge eccetera. Dico dovrebbe perché in Italia non c'è ancora e infatti ci sono due mercati per la CO2 il mercato volontario e il mercato obbligatorio il mercato volontario è quello che può fare Alessandro Orsi e Fabio Passoni domani mattina ci mettiamo ad accordo e creiamo un mercato volontario dei crediti di CO2 ce la calcoliamo ok e il mercato istituzionalizzato è quello appunto dato da normative europee scusate normative nazionali corroborate da regolamentazioni europee quindi questo è l'esempio della Spagna cioè la Spagna già da tanti anni ha sviluppato dei sistemi di calcolo per ogni tipologia di progetto io vi lascio qua alcuni titoli e link se andate a Miteco calculadora di CO2 vi apre il sito e vedrete che nei vari titoli entrati ci sono proprio gli Excel di calcolo in Italia questo mercato stati obbligatorio istituzionalizzato non c'è ancora ok come funzionerebbe il mercato istituzionalizzato per esempio in Spagna l'attività privata calcola la CO2 attraverso le tabelle di calcolo ministeriali la vende al mercato spagnolo su uno stock exchange quindi su un mercato di borsa tra virgolette la quale la vende al mercato europeo su uno stock exchange europeo che è l'AX questo è era per lo meno a dicembre l'anno scorso il valore di un credito di CO2 la differenza fondamentale tra il mercato volontario e il mercato istituzionalizzato è un po' come il cash come i biglietti il denaro cioè io vado a prendere una pizza con 10 euro il pizzerio mi dà la pizza perché dietro c'è il ministero che mi garantisce il valore di quei 10 euro se vado col biglietto del monopoli dei 10 euro del monopoli non mi darà mai la pizza ok e questa è la stessa cosa sul mercato volontario se sono abbastanza credibile noi per esempio utilizziamo NTT Data a livello internazionale che hanno un mercato della CO2 volontario ma internazionale c'è una compravendita di crediti quindi qui per la CO2 c'è ci sono due ambiti la riduzione della CO2 attraverso l'incremento di elementi che l'assorno tipo boschi o piantagioni e la riduzione e compensazione che hanno per lo più anche uno scopo educativo di marketing perché quando voi vedete per esempio alcuni prodotti che dicono CO2 compensata vuol dire che non hanno fatto niente non hanno mosso probabilmente neanche un braccio per cambiare i propri processi produttivi ma hanno piantato 250 ettari di bosco per compensare la CO2 che emettono ok Tesla è un esempio questi qua sono i crediti di CO2 che avevano venduto fino al 2023 ogni trimestre vendevano più o meno 500 600 milioni di dollari di CO2 alle altre aziende cioè la Tesla voi la compravate 50.000 euro ma in realtà per ogni macchina che compravate la Tesla vendeva altri 10.000 euro di crediti alla Ford perché produceva motori a benzina 7.000 turbo che ovviamente emettevano un sacco di carbon di CO2 quanto vale un crediti di CO2 indicativamente nel mercato volontario per l'attività che assorbono CO2 quindi boschi eccetera 25-30 euro a tonnellata per l'attività che riducono le emissioni di CO2 quindi ho un'industria riesco a ridurre le proprie emissioni un 5-10 euro a tonnellata finisco in 5 minuti e questo qui è un'altra sfida enorme staremo qui giorni a parlarne ma do solo una pennellata perché in Italia lo sto vedendo fare ma non come si fa all'estero io ho partecipato a vari progetti europei tra cui la sviluppo delle strategie per l'implementazione del BIM per tutti i ministeri della Spagna queste sono alcune delle mie pubblicazioni se andate a vedere in internet ne trovate parecchie ma i concetti che voglio darvi oggi sono questi che il BIM si è trasformato in Italia da un'opportunità incredibile a uno spreco secondo me perché il BIM è nato negli Stati Uniti perché nel sistema statunitense è il general contractor che fa il progetto esecuzione quindi funziona che se arrivo in cantiere e ho dei problemi io non posso rivalermi su nessuno perché il progetto esecutivo l'ho fatto io quindi l'idea del general contractor statunitensi era per ogni 100 milioni di euro di progetti ho 5, 6, 7 milioni di euro di problemi in cantiere perché non sviluppo io un sistema per prevenire questi problemi in cantiere ok così da averne 2, 3 non 7, 8 e infatti hanno sviluppato il BIM che è una tecnologia che ci permette di associare agli elementi vari tipi di informazioni non solamente quelle che mi servono adesso ma quelle che mi serviranno anche in fase di costruzione in fase di uso ok e con il tempo il building information modeling è diventato perlomeno all'estero in Italia non ho ancora visto un sistema di gestione per tutta la fase sia di progettazione costruzione uso e demolizione o riutilizzo dell'edificio il concetto di BIM è questo questo qui è uscito nel 2013 BIM come elemento per gestire tutta la vita dell'edificio stiamo parlando di 20 anni fa 10 anni fa dopo vari studi è uscito il concetto di BIM BAM BOOM che dice per ogni dollaro o euro che io investo nella fase di disegno questo si riflette in un costo aggiuntivo o in un risparmio aggiuntivo a seconda che io abbia fatto una scelta oculata o un disastro o un errore di 20 volte nella fase di assembly quindi la fase di costruzione e di 60 volte nella fase di uso quindi il mio BIM non dovrebbe guardare solamente a quello che faccio da qui ai prossimi 10 mesi l'anno dovrebbe guardare a quello che faccio da qui ai prossimi 50 anni e lasciate che vi lasci con questa cosa se io realizzo un impianto questo qui è tarato sull'ospedale però questo concetto può essere sviluppato per più edifici io realizzo un ospedale a 300 milioni di euro 400 e questi 400 milioni di euro è il 100% se vedo da qua due anni tre anni ma se guardo al totale della vita ok la vita utile dell'edificio il costo di costruzione mi rappresenta l'8-10% il 55% è rappresentato di solito dallo staff e dopo c'è il 15-20 15-20 che è tra manutenzione e energia se io riesco a realizzare un progetto che mi risparmi un 10% dei costi dello staff per ottimizzazione dei percorsi piuttosto che delle modifiche che devo fare in futuro e un 10% dell'energia e della manutenzione perché il modello mi invia automaticamente un email quando devo cambiare la caldaia eccetera il costo di costruzione è zero quindi l'ospedale è gratis e io in Italia purtroppo fino adesso vedo molte volte BIM che si fermano al BIM cioè non entrano neanche nel BAM perché i processi di disegno e i processi di costruzione delle aziende dei general contractor non sono allineati comunque uno non sa come fa l'altro concludendo queste nuove tecnologie tra l'altro nuove io sto guardando sempre dal punto di vista internazionale una massa di novità che arriva io mi sono laureato per esempio in Project Construction Management degli Stati Uniti che è stata un'attività che ha smesso di svilupparsi tra virgolette negli anni 2000 e poi mi sono specializzato in Lean Construction che in Italia non si usa cioè non l'ho mai visto mentre dalla Germania in su è praticamente d'obbligo anche negli Stati Uniti su cui si è basato anche il Building Information Modeling dal punto di vista della sostenibilità sono nati prima le certificazioni per edifici poi la parte di Green Finance poi la tassonomia e adesso queste cose qua sono sviluppate all'ennesima potenza ci stiamo lavorando anche noi attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale quindi sono temi non più dilazionabili io personalmente spero ancora di sbagliarmi vedo l'Italia qualche anno indietro però sono opportunità non sono costi aggiunti e bisogna riuscire a declinare nel modo giusto per avere uno e non l'altro grazie mille per l'attenzione grazie ad Alessandro Orsi una provocazione che arriva in chat voglio prenderla come provocazione non come considerazione reale e un paio di domande intanto le chiederei in termini percentuali quanto il vostro lavoro sia sul territorio italiano rispetto si è capito essere ovviamente in minima se non infinitesimalmente in minima parte 15-20% ok ok pensavo pensavo un po' meno e su questo 15-20% riuscite voi a ragionare in termini di bim bam almeno in Italia il termine di bim bam io ho fatto per esempio i corsi per i dirigenti generali della provincia di Trento e di Bozzano e anche per i tecnici che sono i più avanzati sul territorio nazionale peraltro nel 2018 ok non si è mossa una foglia ok noi in Spagna giusto per rispondere anche alle 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 critiche eccetera building building information modeling e lean construction vi porto alcuni esempi per i quali abbiamo lavorato Spagna 5 progetti degli ospedali in Catalunia andatevi a vedere se volete 5 ospedali di piccola media entità tra i 5-6 mila metri quadrati l'uno gestione unica ma imprese di costruzione diverse ci abbiamo messo 32 settimane tra progetto e costruzione 20 settimane di costruzione 12 settimane per la presentazione in Finlandia è un progetto da un miliardo di euro di un ospedale attraverso l'ottimizzazione di BIM e Lean siamo riusciti a noi siamo entrati di striscio lì ma il progetto è finito 12 mesi prima della fine dei lavori senza costi aggiuntivi cioè andate a vedere in giro progetti under budget and ahead of schedule che vuol dire sotto il budget e prima della fine lavori esistono pubblici quindi è per questo che io sto cercando di trasmettervi queste idee attraverso la possibilità di utilizzare delle opportunità e non come dei doveri che vi vengono imposti il BIM adesso è già obbligatorio per i progetti pubblici superiori ai 5 milioni di euro dall'1 gennaio 2026 sarà obbligatorio per tutti i progetti sopra milioni di euro il problema è che se fatto bene rappresenta un'opportunità per risparmiare se fatto male è un costo aggiuntivo per tutti per quale motivo intanto piccola digressione vedo delle mani alzate se ci indicate in chat o in domande e risposte il vostro tema almeno riusciamo ad argomentare per quale motivo ci dovrebbe essere così tanta reticenza vediamo in chat delle considerazioni il BIM è una speculazione un modo per supportare da un lato le imprese dall'altra le software house ecco data la sua esperienza internazionale come può rispondere a queste considerazioni sono frutto più di non lo so poca predisposizione o sfiducia nei confronti della classe normativa qualità bisogna cambiare il sistema perché per l'implementazione di BIM allora innanzitutto bisogna sapere cos'è e come funziona quindi bisogna imparare cose nuove ok c'era fino a qualche mese fa mi pare anche un problema dal punto di vista normativo perché il BIM è nato in ambito anglosassone dove è diverso dal nostro dove quindi era la progettazione era integrata alla costruzione quindi c'era il progetto integrato fondamentalmente come base di partenza e il decreto del decreto ministeriale il 50 in quale il 2016 vietava l'appalto integrato in Italia mentre adesso è stato cambiato quindi c'è sicuramente un problema di aggiornarsi dal punto di vista delle 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 aziende ma anche soprattutto dei professionisti c'è un problema di dimensione delle nostre aziende dei nostri professionisti perché un professionista che ha uno o due dipendenti non si può chiedere di prendere tutto il pacchetto Revit o Autodesk ok spendendo anche tanti però se ci si mette d'accordo cioè i general contractor all'estero dicono di solito oh io lavoro così se tu ti adatti lavori con me se no non lavori con me ok e vengono anche sovvenzionati a questo punto di vista quindi c'è una concausa di fattori secondo me uno il fatto che bisogna che bisogna capire come funzioni e che bisogna apprendere delle cose nuove che sono completamente diverse da quelle che ci hanno ci hanno insegnato ok come io sono un ingegnere in Italia ma non ho avuto un corso di project management né di BIM e quindi sono imparate negli Stati Uniti e poi il fatto che ma stiamo parlando di BIM come stiamo parlando di sostenibilità perché io il progetto il progetto mi chiede devo fare il piano di adattabilità al cambio climatico ma non lo fa pensando che se non lo pensando che possa essere un'opportunità lo fa perché vuole prendere i soldi pubblici cioè il finanziamento privato pubblico ok mentre se lo cerchiamo cominciamo a vedere in un'altra ottica tipo devo fare l'impianto di l'impianto meccanico per tutto il mio impianto sportivo adesso lo faccio sulla base dei dati meteorologici che ho ma se tra dieci anni in estate ho dieci gradi in più come mi funzionano le macchine ok quindi il piano di adattabilità prevederebbe prevede il fatto di simulare il funzionamento delle mie macchine con temperature diverse con situazioni meteorologiche diverse quindi è un'opportunità per non avere problemi dopo che sia per la parte dal punto di vista della sostenibilità che dal punto di vista B ok molto chiaro avremo bisogno effettivamente di un paio di giornate per affrontare bene anche solo certe tassonomie mettiamola così sono concetti che in alcune rubriche di sport di sport impianti abbiamo affrontato più volte bisogna scendere effettivamente nel a livello di dettaglio mentre qui siamo ancora a livello più iniziale superficiale per introdurre dei concetti che chiaramente però già vediamo smuovono un po' gli animi o rompono un po' gli schemi perché effettivamente da un lato c'è una difficoltà una reticenza nei confronti di chi ci dice di dover iniziare a seguire un certo percorso dall'altra manca tipicamente un'assistenza e un supporto istituzionale finanziario per supportare una qualunque transizione che possa essere e questo discorso può essere applicato a tutti i livelli di una filiera da un cambio generale culturale generazionale a un cambio di processo produttivo nel momento in cui ci sono innovazioni scoperte tecnologiche e passi in avanti nei confronti di una maggiore economia di una maggior circolarità sulla produzione del prodotto X ecco diciamo che tutto quel costo di sviluppo tendenzialmente oggi se lo assorbe in totalità l'ideatore stesso l'impresa l'industria tendenzialmente questo è sicuramente un fattore che viene percepito come come anello debole sicuramente di una catena della catena del progresso e di conseguenza un anello debole all'interno di una catena di progresso culturale sociale anche perché ne parlavo all'inizio ed era presente anche nelle sue slide l'indicazione di una sostenibilità come motore di una sostenibilità sociale culturale quindi alla fine sempre di questi termini poi più culturali si deve andare a discutere sono quelli più importanti da variare per far sì che ci possa essere una come dire un contenimento di quello che può essere un gap nei confronti di un mercato internazionale ma anche nei confronti di quelle che sono esigenze ambientali mi piacerebbe sicuramente ci piacerebbe sicuramente riprendere questi discorsi successivamente più avanti procediamo quindi per ora la ringraziamo sicuramente per il contributo che reputo di veramente di alto valore e continuiamo con ci sentiamo sicuramente presto e continuiamo con l'ingegnere granzotto buongiorno a tutti buongiorno a tutti buongiorno buongiorno Nicola granzotto ben ritrovato ci siamo già visti in qualche appuntamento in precedenza parliamo oggi di contenimento di correzione acustica di comfort indoor in questo caso e di come si possa arrivare a non uscire da una palestra da un palazzetto con la testa che continua a rimbalzare e rimbombare fondamentalmente quali sono i cenni che oggi vuoi passarci sì sarà capitato a tutti di entrare in delle palestre magari per delle partite di basket pallavolo calcetto anche per delle rappresentazioni che vengono fatte spesso in questi luoghi ed uscire con la testa rimbombante questo perché le superfici a volte delle palestre non sono trattate acusticamente quindi l'utilizzo di calcestruzzo materiali rigidi e quant'altro porta a dei tempi di riverberazione molto elevati e quindi hanno un comfort molto basso all'interno di questi ambienti vediamo quindi oggi qualcosa sull'assorbimento acustico un accenno sull'assorbimento acustico ai tempi di riverberazione di ambienti intanto cos'è il suono il suono è il fenomeno sonoro caratterizzato dalla propagazione di energia meccanica dovuta a compressioni ed espansioni in un mezzo elastico quindi dobbiamo avere l'aria fondamentalmente affinché il suono possa propagarsi quindi ci sono a seguito di una vibrazione qui è rappresentato un diapason ma anche le corde vocali un altoparlante le particelle d'aria vengono compresse successivamente espanse compresse espanse e si crea la cosiddetta onda sonora un po' come visivamente l'onda del mare che ha delle creste ad una certa distanza una dall'altra e quindi abbiamo la velocità delle particelle d'aria la velocità intorno alla posizione di equilibrio delle particelle d'aria stesse e la velocità dell'onda sonora è un po' come avere un galleggiante nel mare vedere il galleggiante che va su e giù ma quindi in una posizione tutto sommato di equilibrio e però noi vediamo l'onda che si propaga con una certa velocità quindi velocità delle particelle è diversa dalla velocità del suono la frequenza l'orecchio umano riesce a percepire frequenze che vanno dai 20 ai 20.000 hertz cosa sono gli hertz sono le oscillazioni di queste vibrazioni oscillazioni al secondo quindi l'orecchio umano tendenzialmente come limite minimo e massimo riesce a percepire vibrazioni che vanno dai 20 ai 20.000 hertz all'aumentare dell'età i 20.000 hertz si riducono parecchio se vai 15.000 12.000 e così al di sotto dei 20 hertz ci sono gli infrasuoni al di sopra dei 20.000 hertz abbiamo gli ultrasuoni alcuni animali riescono a percepire appunto le frequenze sopra i 20.000 hertz come ad esempio pipistrelli o altri animali queste frequenze se avete dimestichezza un po' con un pianoforte la nota più bassa di un pianoforte è 27.5 hertz e la nota più alta 4.180 poi abbiamo il la del diapason dove vengono accordati gli strumenti che è 440 hertz però 440 hertz di un violino sono ben diversi da 440 hertz di un pianoforte cosa rende i suoni diversi uno dall'altro a parità di frequenza un sottobosco di altre frequenze che si chiamano armoniche quindi la voce di un certo cantante che canta una canzone rispetto ad una stessa canzone cantata da un altro cantante è diversa perché sono diverse le cosiddette armoniche un altro parametro importante avrete sicuramente sentito parlare in campo acustico è la pressione sonora la pressione sonora e livello quindi conseguente di pressione sonora è espresso in decibel il decibel non è un'unità di misura ma è una particolare scala di misura che deve avere un certo riferimento per la normativa il riferimento è 2 per 10 alle meno 5 pascal quindi c'è una certa pressione di riferimento e su questa ci si riferisce alla pressione acustica quelle che abbiamo visto le differenze di pressione rispetto alla pressione atmosferica quindi avremmo i suoni più bassi a 20 25 decibel e i suoni più alti a 120 e anche più decibel entrando nell'ambito dell'isolamento e dell'assorbimento cose molto diverse una dall'altra si può capire meglio la differenza guardando questa semplice immagine quindi noi abbiamo una certa potenza sonora che incide su una parete parte di questa potenza verrà riflessa nello stesso ambiente parte verrà dissipata dalla parete in calore parte verrà trasmessa dall'altra parte o nell'altro ambiente o nell'ambiente esterno per via diretta o per via strutturale si si individuare dei coefficienti particolari abbiamo il coefficiente di dissipazione che è rappresentato della potenza dissipata rispetto alla potenza incidente il coefficiente di trasmissione rapporto tra la potenza trasmessa e la potenza incidente il coefficiente di assorbimento apparente quello che ci interessa in questa presentazione è dato dalla somma del coefficiente di dissipazione quello di trasmissione infine abbiamo il coefficiente di riflessione cioè il rapporto tra la potenza riflessa e la potenza incidente quindi abbiamo questa relazione che lega i diversi parametri ad esempio il coefficiente di riflessione più quello di dissipazione più quello di trasmissione uguale a 1 così come il coefficiente di riflessione più quello di assorbimento uguale a 1 cosa importantissima da ricordare oggi e che è alla base dell'acustica edilizia è la differenza tra fonoisolamento e fonoassorbimento un buon materiale fonoisolante è un materiale che riflette bene il suono che permette al suono di non passare dall'altra parte invece il fonoassorbimento un buon materiale fonoassorbimento è un materiale che evita la riflessione quindi se pensiamo al calcestruzzo una parete di calcestruzzo ha un ottimo isolamento acustico ma un pessimo fonoassorbimento così come se dovessimo fare un divisorio tra unità immobiliari con un pannello di fibra questo avrà un ottimo fonoassorbimento ma l'isolamento non sarà così ottimale quindi è importante capire questa differenza in un ambiente quindi che potrebbe essere una camera da letto come un'aula scolastica o una palestra possiamo quindi abbiamo definito il coefficiente di assorbimento che è un numero che va da 0 a 1 1 massimo assorbimento dell'energia e 0 massima riflessione in un ambiente che quindi ha delle superfici avremo diversi materiali con diversi coefficienti di assorbimento questi come vedremo sono testati in laboratorio per diversi materiali quindi si definisce area di assorbimento acustico equivalente a maiuscolo la somma di tutti i prodotti tra i coefficienti di assorbimento e le rispettive superfici quindi se noi abbiamo un'aula scolastica ad esempio con un controsoffitto avremmo pareti intonacate e pavimento in linoleum dovremmo sommare tutti i coefficienti di assorbimento per le rispettive superfici per trovare quest'area di assorbimento equivalente in metri quadri a questa area di assorbimento dovuta alle superfici piane si va ad aggiungere un altro contributo che è dovuto a quello degli oggetti ad esempio un teatro avrà sì delle superfici riflettenti e assorbenti ma avrà anche delle poltrone le poltrone sono molto importanti nelle sale conferenza nei teatri per regolare ulteriormente l'assorbimento essendo la poltrona un oggetto quindi non una superficie piana si va ad individuare direttamente l'area di assorbimento unitario di un oggetto di una poltrona che poi verrà moltiplicato per il numero di poltrone per ottenere quella che è l'area di assorbimento equivalente di un certo ambiente questa per via previsionale quindi se noi vogliamo fare un calcolo dell'assorbimento di un ambiente andiamo a prenderci cataloghi i coefficienti di assorbimento le aree di assorbimento degli oggetti e vediamo qual è l'area di assorbimento del nostro ambiente a cosa ci serve poi quest'area di assorbimento ecco qua una rappresentazione abbiamo quindi le superfici piane come potrebbero essere le pareti oppure il pavimento oppure gli oggetti potremmo avere delle isole a soffitto oppure dei pannelli isolati poltrone o degli oggetti ecco questa è una rappresentazione a cosa ci serve quest'area di assorbimento bisogna passare attraverso la definizione di un parametro molto importante e fondamentale in acustica che è il tempo di riverberazione come è definito il tempo di riverberazione è definito come il tempo necessario affinché la densità di energia sonora in un ambiente si riduca al valore di un milionesimo della densità di energia presente al momento dell'interruzione di una sorgente acustica cosa vuol dire in pratica noi siamo in un ambiente battiamo le mani oppure accendiamo un altoparlante con un rumore ad ampio spettro lo spegniamo improvvisamente e notiamo che il rumore generato delle riflessioni non decadrà improvvisamente ma subirà un decadimento in un certo tempo il tempo affinché ci sia un calo di livello di pressione di 60 decibel equivale appunto a questo milionesimo di densità di energia questo rappresenta il nostro tempo di riverberazione quindi ambienti con tempi di riverberazione più alti sono ambienti che generalmente hanno un comfort meno elevato quindi in questo esempio questo grafico vediamo una sorgente accesa e con un livello relativo di 0 decibel la sorgente accesa viene spenta e ci sarà un certo tempo affinché il rumore prodotto dalle riflessioni non arrivi al rumore di fondo quindi noi andiamo a valutare il decadimento nei primi 60 decibel quindi a partire da meno 5 per toglierci da questa posizione un po' che potrebbe dare dei problemi da meno 5 a meno 65 valutiamo il tempo tra appunto meno 5 e meno 65 decimi in questo caso nell'esempio 1,8 secondi esiste una relazione che è questa una delle più importanti in ambito acustico e soprattutto in ambito architettonico dove viene legata in maniera semplice l'area di assorbimento al tempo di riverberazione il tempo di riverberazione è un parametro fondamentale ce ne sono altri ma questo è fondamentale nell'acustica architettonica questa semplice formuletta vediamo che abbiamo il tempo di riverbero e riverberazione in una stanza è uguale ad una costante 0,16 per il volume di un ambiente diviso l'area di assorbimento quindi il volume noi ce l'abbiamo semplicemente l'area di assorbimento l'andiamo a calcolare attraverso i certificati attraverso la forma delle pareti in maniera semplice anche questa quindi questa formula è molto utile per avere un primo dimensionamento in ambienti semplici non possiamo andare a progettare un teatro con questa formula ovviamente però se è un'aula scolastica in qualche modo riusciamo a prevedere il tempo di riverberazione quindi se abbiamo ambienti complessi bisogna utilizzare dei software previsionali a raggi eccetera esistono oltre il tempo di riverberazione anche altri parametri come la chiarezza c50 che non è altro che il rapporto tra l'energia sonora che giunge all'ascoltatore nei primi 50 millisecondi diviso l'energia che giunge all'ascoltatore da 50 millisecondi fino al decadimento del segnale ecco qui quindi fino alla linea rossa abbiamo una certa energia dopo la linea rossa ne abbiamo un'altra si fa il rapporto di queste energie e si trova questo parametro che è fondamentale per quanto riguarda il parlato quindi più alto è questo questo numero migliore è l'intelligibilità del parlato un altro parametro importante sempre per l'intelligibilità del parlato è lo speech transmission index e in questa tabella possiamo vedere valori da 0 a 1 di questo indice da 0 a 0 3 è una qualità del parlato pessima fino ad arrivare a 0 75 1 dove abbiamo una qualità eccellente i materiali per l'assorbimento acustico quindi abbiamo visto l'assorbimento acustico non va d'accordo col calcestruzzo si vogliono dei materiali che in qualche modo dissipino l'energia sonora incidente i più caratteristici sono appunto i materiali porosi e tra questi abbiamo le lane di roccia fibre di vetro fibre di poliestere lana di legno fibra di legno cellulosa e quant'altro quindi materiali con una certa porosità non ho parlato di polistirene estruso polistirene perché qual è la proprietà che devono avere questi materiali devono avere una certa porosità quindi devono potersi incuneare le particelle d'aria e muoversi all'interno di queste porosità e dissipare l'energia cosa che un materiale magari ad alto isolamento termico come può essere il polistirene non fa le celle sono chiuse e l'aria non riesce a muoversi all'interno quindi ci vuole una porosità a celle aperte un'altra modalità di assorbimento dell'energia sonora è tramite risonatori acustici o risonatori a membrana anche questa se voi entrate in un teatro non vedrete mai direttamente della lana di roccia o della fibra di poliestere a parete ma vedrete magari dei pannelli forati fessurati oppure dei pannelli cecchi che però nell'intercapedine hanno della lana di roccia o del materiale fibroso in questo modo e dissipano l'energia in maniera diversa appunto risuonando queste membrane risuonano ad una certa frequenza o appunto i risonatori risuonano anche loro ad una certa frequenza questi altri sistemi sono utili per avere degli assorbimenti selettivi quindi abbiamo visto la porosità un materiale non deve avere né una bassa resistenza al flusso d'aria né una elevata resistenza al flusso d'aria deve avere una resistenza ottimale perché altrimenti l'aria o si muove troppo facilmente o fa troppa fatica a muoversi quindi anche i materiali porosi hanno un certo range ottimale di questa proprietà resistenza al flusso e se noi abbiamo un materiale poroso lo possiamo distanziare da una parete immaginiamo ad esempio un controsoffitto quindi se noi abbiamo materiali in aderenza oppure con una certa intercapedina d'aria con l'intercapedina d'aria riusciamo ad assorbire le frequenze più basse dello spettro sonoro abbiamo parlato quindi materiali porosi questi sono i risonatori acustici quindi entriamo nell'ambito della risonanza di cavità e questi possono essere assimilati a pannelli forati pannelli fessurati dove ogni fessura ogni foro corrisponde un po' ad una bottiglia quindi noi quando soffiamo su una bottiglia sentiamo un certo suono questi risonatori funzionano un po' nello stesso modo cioè riescono ad assorbire proprio la frequenza di risonanza di queste mini bottiglie è un assorbimento a campana di questo tipo quindi selettivo che serve ad esempio per andare ad assorbire a bassa frequenza le risonanze modali che abbiamo all'interno degli ambienti risonanza abbiamo detto anche di membrana quindi pannelli ciechi assorbono anche questi se sono pannelli cartongesso o legno vibrando riescono questi ad assorbire l'energia più che altro a bassa frequenza quindi sono utili per le basse frequenze anche questi sono selettivi quindi in questa slide possiamo vedere un po' le caratteristiche delle tre tipologie di materiali abbiamo la dissipazione per porosità con assorbimenti maggiori alle medio-alte frequenze e poi risonanza di membrana e cavità con assorbimenti localizzati più a bassa frequenza come viene fuori questo coefficiente di assorbimento si fanno delle vere proprie misure io ne ho fatte parecchie in camera riverberante a Padova all'università di Padova e come si fa ci sono delle camere cosiddette riverberanti in calcestruzzo spesso con tempi di riverbero anche superiore ai 20 secondi si fanno delle misure di tempo di riverberazione a camera vuota e poi con la camera col provino che può essere o un pannello piano con o senza intercapedine oppure degli oggetti come abbiamo detto ad esempio delle poltrone si fanno dei calcoli delle differenze tra le aree di assorbimento con e senza il provino e si trova l'area di assorbimento totale del nostro campione quindi dei nostri ad esempio 10 metri quadri di pannello o 12 poltrone dopodiché coefficienti di assorbimento abbiamo detto che è per oggetti piani si ottiene andando a dividere quest'area di assorbimento totale per la superficie del campione mentre per oggetti discreti si va a dividere l'area che abbiamo trovato di assorbimento totale per il numero di oggetti testati in laboratorio ad esempio in questo caso abbiamo 12 poltrone quindi i produttori di pannelli e poltrone vi forniranno forniranno al progettista questi certificati quindi questo andamento in frequenza dell'assorbimento acustico visto come coefficienti di assorbimento per i pannelli piani oppure direttamente aree di assorbimento per gli oggetti quindi il grafico che viene fuori da un certificato di laboratorio va generalmente da 100 a 5000 Hz però poi a livello pratico può essere utile avere un indice unico in modo da confrontare in prima battuta diversi pannelli è un modo un po' una specie di media quindi va preso un po' con le pinze però troverete spesso nei materiali indicato l'alpha w il coefficiente di assorbimento acustico ponderato quindi nei cataloghi quando trovate alfa w 0,80 ad esempio corrisponde a una classe di assorbimento acustico b e può essere confrontato con materiali simili c'è una norma che specifica come calcolare quest'alfa w non è la media dei valori ma va valutato tra 250 e 4000 hertz con un metodo particolare che adesso non vi spiego ma è indicato nella ISO 11654 quindi questo solo per dirvi che oltre al grafico troverete indicato nei cataloghi certificati anche questo alfa w quindi a parità di alfa w ad esempio vedete qui potremmo avere quindi due materiali con uno stesso alfa w 060 ma il secondo ha un picco di assorbimento maggiore a 500 hertz allora la normativa dice andiamo a indicare anche questa proprietà particolare del materiale andando a indicare con lettera tra parentesi dopo il numero se assorbe di più alle basse alle medie alle alte frequenze quindi L per le basse M per le medie H per le alte in questo caso siamo a 500 hertz una frequenza media e andremo a indicare che c'è un particolare assorbimento alle medie frequenze quindi oltre a questo numero troverete magari anche delle lettere questo è un esempio di applicazione di un pannello pannello Next modello Industry che ha una finitura in lana di legno con un intercapedine di fibra di vetro quindi questo pannello ha la proprietà fonoassorbente ed evita in questo modo le riflessioni nelle pareti e le attenua e quindi un maggior comfort all'interno questo è il campione testato in laboratorio quindi in una camera riverberante con il suo pacchetto effettivo anche se il pannello è previsto a soffitto in laboratorio viene testato a pavimento e questo è il risultato come vi dicevo in frequenza da 105.000 hertz quindi valori intorno a 0.9 0.8 0.95 il valore di alfa w 0.90 quindi questo è il pannello utilizzato in questo palazzetto di Belluno a livello normativo dal punto di vista del tempo di riverbero e comfort interno come siamo messi in Italia ecco qui vi faccio vedere una cronologia delle circolari decreti e leggi e normative dal 67 fino ad ora quindi si è partiti con una circolare la 3150 del 67 criteri di valutazione collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici dove viene data una prima indicazione sui tempi di riverberazione di aule e palestre quindi 1,2 secondi per le aule e 2,2 secondi per le palestre questo viene richiamato anche nel dpcm 512 97 quindi se noi vogliamo una palestra scolastica a norma di legge deve rispettare perlomeno i valori della circolare quindi 2,2 secondi successivamente è uscita una norma la 11 367 del 2010 sulla classificazione acustica delle unità immobiliari e l'appendice C riporta dei valori di riferimento per il parlato per le palestre nel 2017 abbiamo un decreto sui criteri ambientali minimi che poi è stato aggiornato nel giugno del 2022 in questo decreto viene richiesto quindi se noi vogliamo soddisfare ricamere negli edifici pubblici di rispettare per le scuole la norma 11 532 parte 2 che quindi ha dei grafici degli aspetti dedicati al comfort interno oppure se per gli altri ambienti come potrebbero essere degli uffici si fa riferimento alla norma 11 367 che è stata aggiornata nel 2023 quindi vediamo abbiamo detto requisiti acustici passivi questo decreto famigerato del 97 dove oltre ai vari requisiti di isolamento acustico calpestio impianti abbiamo anche in una nota un riferimento al tempo di riverberazione quindi 1,2 secondi per le aule 2,2 secondi per le palestre la 11 367 ha delle curve e delle formule di riferimento qui vediamo quella per lo sport quindi una certa relazione che indica appunto il tempo di riverberazione ottimale vedete che 2,2 sarebbe qui ma in realtà questa norma per le palestre è anche più restrittiva della circolare del 67 poi abbiamo la 11 532 parte 2 richiamata NICAM per le palestre scolastiche ad esempio e quindi ambiente A5 sport eccolo qui in viola viene indicato il tempo di riverberazione ottimale vedete che al massimo è di 2 secondi quindi più restrittivo ancora quindi abbiamo detto il decreto richiama entrambe queste norme per le scuole la 11 532 parte 2 per gli altri ambienti la 11 367 infine una nota sulle piscine sono delle leggi regionali dove vengono dati dei valori di riferimento ad esempio la regione Lombardia ha un 1,6 secondi eccetera abbiamo l'INAIL che è anche questa 1,6 secondi e quant'altro quindi ho finito con questa infarinatura di acustica architettonica se avete qualche curiosità sono qui infarinatura bella articolata sicuramente la materia non è semplice e io ti chiederei una considerazione in apertura ho detto che quello che rileviamo noi come redazione è un progressivo e crescente aumento nei confronti del tema del comfort acustico noi siamo verticali sul mondo dell'impiantistica sportiva questo ormai lo sanno tutti i nostri partecipanti vorrei capire lato vostro dato che voi come studio specializzato supportate mi immagino sicuramente le aziende nella valutazione nella considerazione dei loro processi di produzione o di sviluppo di un nuovo prodotto ma mi immagino anche che poi effettuate analisi verifiche a lavori eseguiti per verificare se lo stato di progetto sia corrispondente la realtà sia poi corrispondente allo stato di progetto all'attesa di progetto e ecco state rilevando anche voi una progressiva crescita nei confronti di anche solo le verifiche da fare in sede d'opera allora sì dal punto di vista del tempo di riverberazione ho notato un aumento esponenziale dei progetti nelle scuole questo è dovuto a finanziamenti in atto in questi questi mesi questi anni quindi ristrutturazioni di palestre proprio un aumento esponenziale di mense ristrutturazioni di scuole quindi c'è sì un aumento considerevole rispetto diciamo agli aspetti di isolamento acustico che rimangono comunque costanti importanti c'è un incremento dell'aspetto di acustica architettonica in questo caso ecco voi fate da supporto immagino allo studio di progettazione allo studio di architettura o fate addirittura delle verifiche di progetto come ecco come in sostanza quindi come vi ponete voi nei confronti dell'opera stessa sì allora a noi è capitato sia di verificare dei progetti esistenti e verificare anche che c'era necessità di aggiungere ad esempio dei materiali fonosorbenti oppure veniamo chiamati proprio all'inizio cosa la cosa migliore e poi andiamo a fare le verifiche in cantiere in corso d'opera potrebbe anche essere che si fanno delle verifiche in sale conferenza prima della posa del poltrone per vedere poi alla fine quale poltrona andare a mettere per affinare ancora meglio l'acustica e quant'altro quindi tutto quello che concerne questo ultimamente stiamo facendo una cosa diversa degli impianti sportivi però l'acustica dell'aeroporto di Malpensa è la nuova parte anche lì è molto importante non solo per il conforto ma anche per i messaggi di pericolo o i messaggi comunque che vengono dati delle partenze degli aeroporti degli aerei in considerazione poi dell'inquinamento rumoroso e acustico che producono le persone stesse esatto in una mole così concentrata bene ringrazio anche l'ingegnere Granzotto allora verifichiamo se l'architetto Bozo sia online perché aveva delle difficoltà prima a raggiungerci prima di una certa ora però ora dovremmo essere assolutamente in linea quindi eccolo qui benissimo buongiorno e benvenuto all'architetto Bozo ci sente si sta già andando in presentazione va benissimo ecco noi abbiamo anche già pubblicato recentemente l'intervento del quale stiamo per sentire parlare direttamente dal dal progettista che ha seguito l'opera direttamente e il palazzetto di il Palavassa Setteville che ha è stato oggetto di un importante riqualificazione se non una completa anche ridistribuzione da un punto di vista architettonico benvenuto all'architetto Bozo buongiorno spero che mi sentiate bene sì 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 ora ora la sento benissimo ascoltiamo in questo intervento di chiusura le sue considerazioni ecco considera che in apertura abbiamo visto un intervento di una decina di anni fa con riferimento ai termini attuali ai protocolli attuali della DNS che in cui si faceva cenno anche al sistema costruttivo di Wolf che quello di allora era un po' si diceva il genitore il padre il precursore dei sistemi costruttivi che si utilizzano oggi in casa Wolf house e system in questa accezione con lei vedremo anche le considerazioni di un piano di fattibilità tecnico-economica quindi il PEF da un lato la possibilità di arrivare di ottenere finanziamenti e crediti che possono essere che sono solitamente fondamentali nella realizzazione di interventi di impiantistica sportiva voleva giusto non sapendo quando si fosse si sia collegato darle un inquadramento complessivo della prima parte della mattinata bene la ringrazio e saluto tutti quanti chiedo scusa se mi sono collegato dopo l'inizio del seminario ma purtroppo avevo degli impegni già fissati a tempo e mi presento mi chiamo Luigi Voso sono un architetto e un ingegnere quindi ahimè mi tocca maturare due volte i crediti formativi e sono direttore tecnico di una società di ingegneria in Trentino a Primiero San Martino di Castrozza e noi ci occupiamo fondamentalmente di riqualificazione energetica di strutture medio-grandi prevalentemente pubbliche e poi lavoriamo molto sugli edifici alberghieri e anche qui lavoriamo sui temi dell'energia però soprattutto in entrambi i casi accompagniamo sia le amministrazioni e sia i privati oltre che sulla parte diciamo architettonica ed ingegneristica in maniera molto specifica sulla parte economica cioè ci siamo specializzati nel reperire dei fondi a livello europeo dei fondi strutturali piuttosto che fondi col gestore per i servizi dell'energia e altre cose fortunatamente in questo momento in Italia c'è la possibilità di cumulo e quindi molte volte riusciamo ad ottenere delle progettazioni soprattutto in ambito pubblico che fanno sì che il comune non utilizzi fondi propri ecco diciamo che questo è un po' il nostro core business allora oggi io vi presento un intervento che è partito nel 2019 poi ahimè abbiamo avuto il periodo covid e quindi abbiamo dovuto fare alcuni ripensamenti proprio dal punto di vista diciamo economico in quanto abbiamo avuto diciamo un aumento dei materiali che tutti conosciamo molto bene per il discorso del super bonus e quindi abbiamo dovuto riengegnerizzare il progetto adesso lo vedremo in modo tale da contenere i costi perché ormai avevamo diciamo un capitolo ben definito e da lì non potevamo uscire allora chiedo solo una cosa volevo minimizzare eccoci qua così si vede meglio ecco come potete vedere il processo che noi solitamente adottiamo è basato su due attori principali allora prima di tutto l'amministrazione che è l'ente che oltre a fare una programmazione sul piano delle opere pubbliche di tipo pluriannale deve quello che è il costo delle opere ma non solo il costo in termini economici ma anche un costo che poi sarà di utilizzo quindi un costo diciamo di gestione negli anni e un areale come possiamo definirla diciamo attrattiva e anche utilità per quello che ne sarà poi diciamo l'utilizzo effettivo da parte di potenza e quindi ha questa grossa responsabilità che io continuo a evidenziarlo a sottolinearlo in questi anni in cui abbiamo sempre meno risorse a disposizione tutti i giorni intergiornali insomma ce lo dice non possiamo sbagliare nell'identificare dei bisogni che siano realmente effettivi cioè non possiamo gettare i soldi pubblici questo penso che sia un pensiero che è condiviso da tutti in questo seminario ecco il secondo attore io lo metto insieme anche se in realtà sono due è il progettista impresa cioè il progettista come nel nostro caso deve formulare una sua proposta riuscire a trovare un percorso economico nel nostro caso di finanziamento che ne permetta una corretta realizzazione naturalmente questo avviene se solo se l'impresa va in sinergia con il progettista perché molte volte quelle che sono delle idee molto valide poi in qualche maniera vengono un po' diciamo smontate in fase di cantiere perché magari è stato fatto diciamo così un appalto con un ribasso molto forte quindi è chiaro che l'impresa in qualche maniera tenta di rientrare questa è una cosa che bisogna cercare di evitare ma comunque nel nostro cantiere anche di solito insomma non è successo e spero che non succederà mai partiamo allora dall'opera vedete è una struttura a pallone con delle centina in legno lamellare che è stata la base di partenza questo è uno dei comuni dell'asse che va dal bellunese al trevisano noi diciamo con questi comuni abbiamo un rapporto proprio fiduciario da molti anni nel senso che siamo intervenuti su parecchie strutture e ci fa anche il piacere che veniamo sempre invitati quando ci sono delle gare di progettazione proprio perché cerchiamo di dare il nostro modesto contributo ma comunque utilizzando le migliori tecniche possibili il problema di questa struttura è che viene veniva anzi sovrautilizzata ci sono parecchie diciamo associazioni sportive nel comune di Setteville che riunisce fra l'altro gli ex comuni prima della fusione di Bas di Quero di Adano eccetera quindi ha veramente un'utenza importante ed impegnativa la prima soluzione che abbiamo ideato è questa cioè è stata quella di riprendere quella che era la struttura originale quindi vedete queste grandi centine che sono otto in tutto e di adattarle con una copertura che avesse naturalmente ha anche una forma architettonica piacevole in innesto cioè cosa vuol dire per accedere ai contributi di cui dopo vedremo nello specifico l'opera doveva assolutamente essere classificata come una ristrutturazione e quindi mantenere il più possibile quello che era l'aspetto strutturale originario quindi è stata fatta una misurazione in questo caso abbiamo usato delle misure con il laser scanner e abbiamo definito quelle che erano le misure esatte diciamo degli elementi strutturali ecco un altro aspetto che per noi era importante mi rilaccio un po' al relatore precedente che ho ascoltato con molto interesse per la notevole competenza ecco in questo caso qua diciamo che il controsuffitto che inizialmente era stato pensato non in lana di legno ma in lana minerale aveva questa forma che riprendeva un po' la calendratura delle centine che vedete in qualche maniera doveva essere discretizzato con dei triangoli quindi non più con gli elementi rettangolari o a limite quadrati ma perché il tutto funzionasse doveva avere questa forma è chiaro che qui ci sarebbe stato uno sfrido importante quindi molto materiale poi non sarebbe stato utilizzato in più avevamo previsto gli innesti di lucernai vedete molto particolari perché dovevano arrivare fino a quella copertura che abbiamo visto prima di carattere trapezoidale diciamo con una tecnica realizzazione piuttosto complessa però questo era il risultato architettonico che volevamo ottenere ci ha creato dei problemi non tanto dal punto di vista diciamo di impostazione ma dal punto di vista della gestione economica è stata la parte strutturale che poi è stato il motivo per cui poi noi ci siamo avvicinati a Wolf che ringrazio ancora una volta perché non l'ho visto come un rapporto fra progettisti e vita ma l'ho visto invece come un rapporto fra tecnici perché con loro abbiamo davvero potuto discutere delle varie diciamo problematiche e criticità che avevamo proprio per questo repentino aumento di prezzi e quindi siamo passati da un modello strutturale e ricordo che la parte strutturale era sicuramente quella diciamo che incideva di più dal punto di vista economico con questa soluzione a una successiva che poi vedremo di rubo solo 30 secondi su questa slide per evidenziarvi la grandezza e l'importanza delle piastre di connessione che ci permettevano di agganciare questa nuova struttura alle centine esistenti ripeto proprio perché per noi questo doveva essere un modello di ristrutturazione la seconda soluzione invece è stata quella che abbiamo concordato insieme vedete è molto più lineare più semplice abbiamo eliminato le otto centine e abbiamo utilizzato direttamente dei telai più robusti di quelli che avevo progettato inizialmente però con delle connessioni più raffinate ecco perché dicevo prima che bisogna un po' fidarsi delle persone che sanno fare bene il loro lavoro in questo caso con la ditta ci siamo interfacciati con il loro ufficio di progettazione e siamo riusciti a trovare delle connessioni più economiche che ci hanno permesso comunque di arrivare ai livelli prestazionali soprattutto dal punto di vista antisismico che erano richiesti nelle slide vedete una delle sezioni centrali a sinistra con questo telaio asimmetrico dall'altra parte invece vedete i due tamponamenti di testa e di fondo che sono stati realizzati con dei materiali sandwich diciamo con un sandwich di tipo metallico esternamente e poi rinforzati con una struttura a telaio simmetrica in legno che ha dato la rigidità che ci aspettavamo ecco un'altra cosa molto interessante evidenziata in viola in basso è stato il mantenimento delle fondazioni esistenti del pallone che avevamo visto in premessa questo ripeto sempre per riuscire a rispondere dal punto di vista contributivo a quello che era il bando FERS sui fondi strutturali europei che comunque ci vincolavano al mantenimento di almeno una parte delle strutture quindi abbiamo mantenuto la parte delle fondazioni che poi naturalmente siamo andati anche a rinforzare soprattutto sui punti d'angolo però fondamentalmente abbiamo mantenuto il tracciato preesistente qui vediamo la sezione longitudinale sempre in basso è evidenziato in viola la struttura della fondazione e per dare la rigidità che ce l'avamo riproposti vedete che è stata fatta una controventatura in basso sul primo ordine vista così sembra una cosa molto semplice ma vi garantisco che trovare una soluzione che rispondesse sia in termini economici sia in termini antisismici a risolvere l'architettura che ce l'avamo proposti non è stato banale e comunque ci siamo riusciti e un altro aspetto significativo è stato quello delle altezze di questo palazzetto sportivo allora come potete vedere in questa sezione che fa riferimento ancora diciamo alla prima idea però le altezze della pelle esterna del profilo trapezoidale sono rimaste inalterate quindi diciamo la valenza dell'altezza è la medesima abbiamo un valore che è di poco superiore ai 9 metri e per quanto riguarda il finanziamento che poi abbiamo accompagnato da parte del CONI ci veniva richiesta proprio un'altezza di questo tipo quindi il fatto di diciamo eliminare le centine che c'erano inizialmente ci ha permesso in ogni caso di guadagnare quei pochi centimetri che qui sembrano veramente una cosa trascurabile però in realtà diciamo superando questo valore siamo riusciti di omologare la struttura anche per tutta una serie di altri sport qui vedete per esempio che abbiamo inserito un campo da padel il palazzetto adesso omologato a livello internazionale per lo svolgimento di questo sport e poi naturalmente abbiamo tennis abbiamo il calcio 5 e altre attività di tipo anaerobico come dicevo inizialmente questo aspetto non è banale perché stiamo parlando dell'affluenza di circa 20 associazioni nel nuovo comune di Setteville tutte loro hanno delle esigenze tutte loro chiaramente pagano le tasse nel luogo dove vivono e quindi si sentono in diritto di avere una struttura che sia realmente polivalente ecco questo sicuramente deve essere tenuto conto anche da parte di chi progetta molto importante l'ascolto un altro aspetto fondamentale è stata la gestione dei ponti termici in quanto la struttura come avete potuto vedere ha questo profilo molto spigoloso e quindi per noi fare una modellazione che sia stata realmente efficace anche in funzione dell'esposizione solare ma direi anche del vento perché è un luogo molto ventoso abbiamo una laminazione molto forte sulle pareti principali quindi il calore se ne va via molto velocemente quindi abbiamo trovato delle soluzioni qui abbiamo un particolare che si riferisce ancora diciamo alla prima soluzione dopodiché quei due pacchetti coibenti che inizialmente erano in lana minerale sono stati sostituiti con un pacchetto unico che ci è stato proposto e che davvero ci ha risolto moltissimo che quello in fibra di legno mentre a destra potete vedere l'attacco a terra quello è rimasto come era prima e anche lì abbiamo cercato di lavorare isolando il più possibile in modo tale da garantire il comfort interno dal punto di vista impiantistico ricordo che la palestra adesso è scaldata con una pompa aria-acqua che lavora a basse temperature il pavimento radiante è piuttosto esteso perché la superficie di gioco è notevole poi abbiamo gli spogliatoi però abbiamo fatto l'inaugurazione un paio di settimane fa e davvero l'edificio si comporta dal punto di vista energetico come ce l'avamo proposti quindi siamo contenti noi come progettisti ma è anche contenta l'amministrazione perché non solo si trova una cosa che rispetta i requisiti in ZEB che come sapete vuol dire tutto e niente nel senso che noi rispettiamo il protocollo però poi dal punto di vista pratico la gestione diciamo energetica deve funzionare anche in termini di comfort e fortunatamente in questo momento sta dando prova di un'ottima performance questo edificio ecco vi faccio vedere prima di parlare della parte economica un po' alcune foto che abbiamo fatto qualche giorno fa proprio a ridosso dell'inaugurazione che è stata molto sentita in alto a sinistra vedete i primi schizzi che avevamo fatto addirittura con SketchUp quando noi andiamo a fare diciamo le prime idee utilizziamo un modellatore non BIM quindi molto semplice poi il plazzetto naturalmente è stato progettato in BIM e questo ci ha semplificato molto però mi piaceva questa idea di farvi vedere quanto ci siamo avvicinati alla fine del progetto e questo è stata una soddisfazione insomma soprattutto dal punto di vista architettonico vedete è una zona molto verde e quindi è una zona insomma dove quest'opera spicca cioè si vede che prima non c'era differenza magari di capannoni o di cose diciamo più regolari qui abbiamo la parte nord-ovest anche qui in alto a sinistra abbiamo la prima idea fatta in sketchup e sotto abbiamo le foto che ho fatto col drone qualche giorno fa e vedete insomma che abbiamo rispettato quella che era l'idea originale anche qua ripeto per noi insomma è motivo di soddisfazione devo dirlo e qui invece sono due fotografie che vi fanno un po' vedere i particolari gli esterni devono essere ancora finiti verrà seminata quella parte che vedete adesso ricoperta da terreno e l'altro aspetto che volevo farvi notare è sulla sinistra della foto a destra il campo di calcetto che ha ridosso quando noi abbiamo lavorato immaginatevi il cantiere abbiamo tolto solo la rete quella ridosso del muro però non abbiamo assolutamente potuto rovinare neanche un metro quadrato di quel campetto questo è stato un imperativo da parte del sindaco e come potete vedere abbiamo rispettato insomma quelle che erano le sue indicazioni perché non sempre è possibile costruire imposti che sono realmente liberi ecco qui abbiamo una foto che abbiamo già visto prima dal precedente relatore a me piaceva molto il fatto di vedere questa struttura simmetrica che comunque dà diciamo l'idea di uno spazio molto ampio potete vedere i due aspetti di cui parlavamo quindi le cendine questi telai che hanno diciamo della carpenteria metallica che è molto leggera mentre giù in fondo abbiamo il pannello sandwich controventato con questa struttura in legno che anche l'abbiamo lasciato così non l'abbiamo assolutamente pitturato dal mio punto di vista ha un bel aspetto estetico quindi abbiamo scelto dei colori piuttosto caldi come vedete il pavimento con l'arancione e il rosso siamo proprio solo presi la libertà sulle porte d'emergenza in uscita e dalla parte diciamo della tribuna degli spettatori che è a livello del piano del calpestio vedete che abbiamo la cornice grigia solo per dare insomma un distacco sulla struttura però in realtà vedete abbiamo cercato di lasciare i materiali nel colore originale perché ci sembrava se no di forzare e questo è un po' il risultato dal punto di vista economico adesso entro nel merito di come ci siamo comportati allora inizialmente noi avevamo proposto dall'amministrazione un'operazione tipo project financing quindi alcuni privati alcune associazioni sportive che in parte avrebbero supportato diciamo l'operazione c'eravamo dati come diciamo tempi di rientro al massimo vent'anni quindi utilizzare dei fondi in modo tale che cumulandoli con dei fondi pubblici sia di tipo europeo sia di tipo nazionale potessimo arrivare a una sostenibilità diciamo dell'intervento da parte privati che fosse reale e non solo sulla carta no in realtà poi ripeto con l'amento del covid sono cambiate un po' le cose e abbiamo diciamo scelto un'altra strada che è stata molto più economica e soprattutto è stato possibile gestirla direttamente da parte dell'amministrazione diciamo che nel 2020 per chi magari conosce questi aspetti della materia è successa una cosa significativa col decreto aiuti si è riusciti ad inserire i progetti di finanza anche all'interno dei piani pluriannali dell'amministrazione mentre prima invece il project financing era un istituto che era slegato da questo quindi uno poteva avere un'idea e dire vado a fare questa proposta all'amministrazione però non deve essere una proposta che già nel piano delle opere pubbliche ecco con questo tipo io direi anche intelligente di modifica che ha fatto il legislatore si sono sbloccate insomma tante situazioni in ogni caso noi abbiamo costruito assieme all'amministrazione questo tipo di prospetto economico abbiamo maturato un contributo sul fondo sociale europeo regionale questo tipo regionale vedete di 935 mila euro e questo contributo è andato in parte sull'aspetto energetico e in parte sull'aspetto antisismico ecco perché diciamo in premessa che la soluzione che abbiamo trovato come diciamo seconda modalità sembra banale ma in realtà con una carpenteria molto limitata doveva comunque rispettare certi parametri antisismici poi abbiamo preso un contributo dal gestore dei servizi per l'energia in quanto il palazzetto è di tipo un ZEB quindi è energia quasi zero faccio però un appunto su questo trattandosi di demolizione e ricostruzione non avevamo l'obbligo di farlo un ZEB cioè potevamo fare una serie di interventi singoli oppure fare un intervento di tipo un ZEB ecco questo si diciamo si si aggancia anche a un obbligo di legge per grosse strutture pubbliche che è quello di fare una valutazione tipo value for money cioè io determino una soluzione però devo andare a ipotizzare almeno una soluzione alternativa meglio se altre due alternative in modo da vedere se economicamente effettivamente il progetto regge non solo dal punto di vista della spesa del progetto ma anche dal punto di vista della gestione nel periodo di rientro in questo caso se guardate la differenza tra costi e ricavi e il valore attualizzato netto vedete che il rientro sarà in circa una decina d'anni quindi sommando il contributo del Fondo Sociale Europeo il contributo del GSE e poi il comune ha fatto anche un'altra operazione interessante invece che usare fondi lì noi abbiamo lo abbiamo scritto per fare capire comunque questi fondi propri ai coni che sono questi 156 mila euro in realtà non sono altro che un prestito che il coni fa l'amministrazione e l'amministrazione lo rende in 15 anni e quindi diciamo è una spesa realmente contenuta quello è quello che va a spendere l'amministrazione su quel milione e 520 mila euro che è stato ipotizzato ripeto spalmato in 10 anni 256 mila euro per ottenere un'opera così importante insomma è veramente una cifra bassa insomma direi con un risultato invece di eccellenza e concludo dicendovi questo allora quando si fanno opere di questo genere bisogna sempre fare una valutazione che come vi dicevo prima deve essere a 360 gradi ritorno sulle valutazioni economiche che dicevo poco prima che noi avevamo ipotizzato su degli interventi singoli piuttosto che su un edificio onzeb vedete che gli interventi singoli avrebbero maturato 195 mila euro su una spesa di 760 mila euro che non era il costo del palazzetto ma i costi solo dei singoli interventi il resto diciamo è l'escluso intervenendo invece con un edificio di energia quasi zero vedete che su un milione e 520 il contributo è molto più sostanzioso è qui 429 mila euro purtroppo e chiudo però insomma per essere realistico insomma per dirvi un po' le cose come sono la sfortuna diciamo di questa valutazione economica è stata che il GSE considera la superficie degli interventi e non il volume trattandosi del pallone che avevamo inizialmente che aveva un volume molto grande proprio per la forma che aveva rispetto alla superficie calpestabile ci aspettavamo di marginare qualche soldino in più invece grande altezza perché poi ci serviva andare sopra i 9 metri con una superficie che è quella regolare del campo di gioco abbiamo la formula sotto la tabella vedete ci ha portato ad arrivare a quella cifra di 429 mila euro lo dico per chi è interessato diciamo a questi aspetti se si dovesse intervenire su altri edifici di questo tipo diciamo l'opportunità è sempre su edifici che magari non hanno un grande volume ma piuttosto hanno una diciamo una superficie importante io avrei concluso ho cercato di essere piuttosto sintetico e resto disponibile se ci sono delle domande grazie grazie anche all'architetto Bozo sì sicuramente effettivamente un pianto come quello è un volume decisamente superiore rispetto alla superficie calpestabile e giocabile ma anche perché senza quel volume lì non ci sarebbe neanche il parere positivo del CONI e di conseguenza non avrebbe senso poi richiedere contributi per qualcosa che non potrebbe essere poi di fatto utilizzato in competizioni però è in dubbio il fatto che il rapporto tra volume e superficie sia alquanto impari le faccio una domanda nel raffronto tra primo progetto e progetto poi invece realizzato nella prima versione avevate previsto vado a memoria forse erano addirittura otto lucernari giusto comunque dei punti di luce di illuminazione naturale nella realizzazione al di là delle motivazioni tecniche ed economiche avanzate non sono però stati realizzati in generale punti di illuminazione naturale per qualche motivo data la territorialità l'illuminazione generale della valle o per quale altra motivazione no no sulle slide che vi ho fatto vedere prima abbiamo lo stesso numero di lucernari che però non hanno questa profondità ma sono complanari rispetto alla copertura probabilmente non si nota molto dalla slide perché è un aspetto diciamo quasi formale rispetto alla prima versione però per risponderle abbiamo valutato molto bene la parte di illuminazione naturale anche per un discorso di gestione e di costi e di spese e anzi sia d'estate che in primavera l'illuminazione è assolutamente favorevole mentre d'inverno diciamo che dopo le tre e mezza quattro massimo insomma c'è bisogno di affiancarla come illuminazione tipo artificiale d'accordo perfetto ma comunque nello stesso numero perché ricordo di averne visto un paio nelle foto in effetti adesso sono otto se non sbaglio sono otto non mi sembrava proprio dalle foto quindi bene mentre sui tamponamenti testa e coda su un lato c'è il campo da calcetto sull'altro invece per questione più di fonte luminosa generale per non abbagliare giocatori esatto esattamente quello che ha detto abbiamo cercato di guardare il comfort del gioco quindi avere un'illuminazione che sia presente con i cernari diciamo nella falda diciamo quella di copertura quella quasi complanare mentre i due timpani in testa li abbiamo tenuti opachi in modo tale che non ci fosse abbagliamento nell'attività sportiva questa diciamo è stata anche un'indicazione che comunque ci aveva dato il CONI quando c'eravamo intertacciati con loro benissimo bene apro un altro il pannello sì ok lo dico anche l'ho scritto prima in una risposta avete ragione tante informazioni e anche passate velocemente i tempi come dire tecnici sono un po' quelli nel rispetto anche del vostro lavoro di tutti quanti che probabilmente non avreste voluto passare otto ore intere in nostra compagnia l'appuntamento è registrato integralmente tra qualche giorno lo caricheremo online su sportempianti.it quindi lo stesso link che avete trovato di descrizione del convegno ve lo riposto adesso anche in chat e troverete anche le slide dei relatori e le riceverete poi anche via mail ovviamente avete all'interno delle slide i riferimenti di tutti quanti per eventualmente qualora voleste approfondire determinati temi proporre collaborazioni o richiedere supporto tecnico a Wolf piuttosto che a qualche progettista vi ringrazio per essere stati con noi il quarto d'ora previsto in più rispetto alle aspettative un ringraziamento a tutti i relatori e a voi partecipanti come sempre siete stati presenti in numero come consuetudine ci vedremo ai prossimi appuntamenti che vi ho fatto vedere in apertura della mattinata vi auguro una buona giornata e a presto a presto